ed eccoci qua signori buonasera a tutti con il grande maestro luca sciutai buonasera a tutti buonasera carlo grazie per l'invito avete notato la mia pronuncia diversa dal solito perché non volevo commettere un errore di formale perché luca mi ha spiegato che c'è questa iniziale che abbiamo sempre pronunciato una maniera non corretta allora ha detto se non lo pronunci correttamente io non ci vengo in trasmissione e quindi non è proprio così allora anzitutto saluti da tutta l'italia a tutto il brasile perché luca è in brasile al momento si da due settimane comunque sarei venuto anche se avessi pronunciato mai il mio cognome perché in italiano in realtà non si può pronunciare però apprezzo lo sforzo era pronunciato anche bene si sono a san paolo da due settimane mi sono trasferito per lavoro e quindi qua c'è il sole non lo potete vedere ma c'è il sole vedi c'è il sole giustamente e qui invece c'è un almeno a roma un tempo terribile piove tantissimo però non ci interessa perché noi abbiamo qui le questa nostra serata intanto saluto tutti gli amici che sono arrivati in chat si sono seguiti il torneo perché oggi c'è su enti for è super super pieno di eventi e anzi addirittura matteo dovuto interrompere la trasmissione per per dare la linea a noi intanto io vi devo veramente scusare con tutti quanti perché io ho cercato di far pratica con questo con questa linea di regia ma ogni tanto mi impiccio mi è venuta fuori la scacchiera al contrario ci posso far poco non sono riuscito a metterla dritta e quindi abbiamo questa scacchiera non quella a sinistra ma quella sopra che sta al contrario chissà perché perché oggi parliamo del queen's gambit ha anzitutto vi devo fare un piccolo flash sul nostro amico luca facciamo uno dei tanti flash di stasera luca è abbastanza provato perché lo hanno catturato nella mega riunione del campionato italiano in quanto fra pochissimi giorni ci sarà il campione italiano online grandissimo evento in cui parte nel quale partecipa luca e io sono molto felice di vederlo perché lui di solito non è così attivo nei campionati italiani che dici assolutamente sì ma il motivo per cui mi vedi ovviamente perché online quindi a parte la tristezza per per la situazione sanitaria generale per me è stata davvero una una fortuna per la mia partecipazione il fatto che quest'anno si svolga online non vorrei giustificare la pandemia per questo ma insomma almeno questo aspetto per me è stato sicuramente positivo tra l'altro oltre a luca che ovviamente a me fa particolare piacere perché anche un amico ma ci sono anche altri amici che normalmente non partecipano fra cui il numero uno il nostro grande daniele che sta lì in vetta dai l'unico vers 2006 e che normalmente non gioca invece questa volta giocherà quindi grande campionato italiano online sarà trasmesso direttamente dal dal sito della federazione quindi cioè diciamo ragazzi altra roba non è c'è stuenti for poi magari parliamo un attimo dei commentatori che ci saranno però insomma non è una cosa nostra quindi io faccio finta di non parlarne magari alla fine della trasmissione ci facciamo una chiacchiera su questo per darvi questo appuntamento e invece questa sera noi di che dobbiamo parlare di scacchi tecnica e assolutamente se non conoscete gli scacchi minimo da candidato maestro andate via perché luca vi spiegherà le cose super profonde che dici assolutamente tutti i dettagli della tecnica i più aridi e noiosi saranno l'obiettivo della serata per voi di stasera insomma quindi abbandonate il canale se non avete almeno io direi almeno un titolo di maestro dai allora guarda io qua ho messo queste belle locandine al loop con tutte le scritte di tutto il mondo che ci danno una piccola dimostrazione del successo planetario che ha fatto questa questa trasmissione o anzitutto io però siccome è una trasmissione tipo documentario a questo punto io metto una specie di musichina anzi senza specie una musichina sottofondo ditemi se gradite o non gradite perché voglio dare un look un po più allegro alla serata ecco guarda che così mi si vede tutti si vede tutto in trasmissione questa cosa qua quindi giustamente devi comunicare con magari con whatsapp allora senti che stiamo dicendo dunque la serata è molto molto particolare anzi io darei il benvenuto ad alcuni amici che spero siano giunti e che magari non sono così esperti negli scacchi e speriamo che in questo modo riescano a avvicinarsi al nostro mondo dimmi se non sei d'accordo che questo per gli scacchisti è un periodo incredibile è un periodo nel quale probabilmente il la categoria degli scacchisti è quella che ha reagito meglio a mio avviso al problema della pandemia mondiale nel senso che è stato una reazione positiva si è costruito invece di andare verso la depressione si è costruito molto c'è stato un boom e il boom che c'è stato online è stato accompagnato da questo evento clamoroso di questo Queen's Gambit in Brasile ti sei già ambientato cosa si dice? allora anche in Brasile in realtà l'hanno visto però è un fenomeno mondiale quindi sono d'accordo con te che gli scacchisti abbiamo reagito meglio di tante altre categorie anche perché è molto più facile e nel caso degli scacchi sono un gioco davvero versatile quindi davvero applicabile facilmente anche utilizzabile con le nuove tecnologie devo ammettere che comunque molte delle persone che frequentavano i tornei hanno la nostalgia dei tornei e mi avevano anche chiesto varie volte quando si sarebbe potuti tornare a giocare dal vivo però sicuramente nella situazione problematica gli scacchi proseguono e con questo fenomeno anche mediatico e televisivo insomma o comunque cinematografico è sicuramente una grande possibilità di riportare un po' gli scacchi al centro dell'attenzione perché secondo me come insomma ma secondo tutti direi non segue gli stereotipi e non commette molti degli errori che venivano fatti quando il cinema e la televisione hanno cercato di parlare di scacchi è anche il motivo per cui ha avuto così tanto successo credo ma io ragazzi però vi ho portato Luca che è uno dei grandi maestri più quotati d'Italia io tra l'altro Luca io non so se tu sai che io tanti anni fa quando eri ragazzino io scrissi sul web che tu stessi diventato GM entro cinque anni ora non ricordo esattamente non sono andato a riguardare poi ci hai messo qualche tempo in più ma perché ci hai messo un po' di più che c'è qualcuno qua che ci chiede che lavoro fa Luca ragazzi scusate ma che domande fate sono domande offensive Luca è un grande maestro che lavoro volete che faccia è diventato grande maestro si è dedicato agli scacchi a un piccolo hobby Luca che hobby hai per cui sei stato sbattuto in Brasile vendere cocco sulle strade di San Paolo fantastico e come va la vendita di cocco? abbastanza bene perché non c'è il lockdown no scherzi a parte in realtà mi occupo di ricerca scientifica però non mi ricordo la tua previsione sicuramente ci ho messo molti anni di più ma mi ricordo che insomma eri molto molto gentile quando ero anche più piccolo e davvero il sostegno mi ha aiutato perché quando una persona insomma è anche più giovane così sentire delle parole di incoraggiamento aiuta molto quindi ci ho messo un po' di più ma alla fine ce l'ho fatta e grazie anche al supporto che ho ricevuto non certo per merito mio comunque io voglio ricordare che anzi vi voglio raccontare che ci sono poche persone che mi hanno impressionato una di queste scacchisticamente una di queste è Luca che mi ricordo che dava ai suoi pezzi un'energia mostruosa cioè voi andavate a vedere le sue partite mentre analizzava il post partiva ogni mossa riusciva a prendere sei pezzi le metteva al centro della scacchiera o contro il re quindi un'energia fantastica ma appunto oggi abbiamo l'occasione molto particolare oltre che a parlare di bet abbiamo anche l'occasione per parlare della pandemia intanto io qua e cominciamo a vedere le varie immagini del film e tra l'altro iniziamo da questo da questa cosa molto particolare del fatto che visualizza gli scacchi poi adesso ne parliamo però per la pandemia appunto Luca è un è uno scienzi può dire che sei uno scienziato sì io ho detto a tutti che sei un mio amico scienziato quindi non hai posto passa figura adesso che non è vero e ok allora praticamente Luca è un grossissimo esperto ricercatore che ha già fatto un lavoro in mane per l'hiv trovando col suo col suo gruppo di ricerca trovando una soluzione adesso d'uccidere meglio però vista la situazione nel 2020 l'hanno preso adesso viene qua un attimo scusa un attimo allora prendi la tua bravura e mettiti sul covide che ci dici su questo sì allora grazie è vero che mi sono sempre occupato di virus quindi il mio dottorato era proprio sulla tv quello che abbiamo cercato e stiamo ancora cercando di fare sull'hiv e di sviluppare terapie che consentano di curare la malattia la malattia al giorno d'oggi comunque non è più una sentenza di morte esistono farmaci molto efficaci che però vanno assunti vita natural durante e quindi c'è un grosso sforzo per cercare di trovare una cura è ovviamente un obiettivo molto complesso ci sono tantissimi gruppi nel mondo che ci stanno provando e anche noi abbiamo dato credo un contributo importante che ha portato anche sperimentazioni cliniche e in un caso sembra è stato presentato qualche mese fa ha avuto una buona copertura ma ovviamente il covid era su tutte le prime pagine c'è stato anche un probabile caso di cura di un individuo quindi proprio in brasile il motivo iniziale che mi ha spinto a spostarmi qui è proprio perché la sperimentazione clinica sull'hiv è proprio qui a san paolo e per quanto riguarda il covid non avevo nessuna esperienza pregressa come ovviamente sul sars cov 2 ma nemmeno sui coronavirus in genere però dato che avevo lavorato comunque su hiv che insomma la capacità di che mi dava la possibilità di riutilizzare molte delle conoscenze delle tecniche di virologia mi sono dedicato anche a questo e stiamo lavorando che a heidelberg a san paolo in questo caso lo scopo principale è lo sviluppo di farmaci diciamo terapie di combinazione per cercare di ridurre gli effetti patologici della malattia quindi anche se stiamo lavorando in parte anche su vie preventive lo scopo principale della ricerca è proprio lo sviluppo di terapie di combinazione per curare i malati di covid vabbè insomma siamo molto contenti che tu ci dai questa questa testimonianza perché secondo me il problema che abbiamo noi oggi con le informazioni che sono tutte filtrate quindi quando ci dicono le cose non sappiamo mai se sono vere false eccetera tu poi oggi è anche detto che sfuggita che non è immortale e state tranquilli adesso questi se ne vanno in giro senza mascherine e quindi ritorniamo come prima comunque vabbè ti stanno facendo tutti i complimenti in chat ti stanno chiedendo se tu hai un punto debole ma luca scacchisticamente ce l'hai un punto debole tu dici qual è così no non lo dire perché al campionato italiano sennò ti attaccano tutti là ma tanto lo sanno tutti in realtà io credo che come giocatore insomma di non essere poi così forte peso con le molle come concetto sono d'accordo con te quello che dicevi sull'energia sono sempre stato un ottimista non so se ricordi a tronso quando eravamo andati a giocare insieme che in due turni su due ho lasciato un pedone centrale letteralmente impresa e poi per pura fortuna se vogliamo ma anche per il fatto non demoralizzarmi ho vinto entrambe le partite quindi credo di essere un po così un giocatore ottimista magari qualche volta fantasioso ma ho tantissimi punti deboli non credo di poter dire una parte della partita in cui non ho punti deboli beh ma lo vedremo presto perché luca è all'opera dal 18 al 22 quindi dopo domani a campionato italiano online poi tra l'altro prima di salutarci ne parleremo in maniera un po più diffusa vi spiegheremo come funziona ecco in questo evento molto molto suggestivo secondo me della fsi perché sono stati molto reattivi hanno capito che non si poteva giocare dal vivo e quindi si sono immediatamente ricostruiti dall'altra parte o intanto io mentre stavamo parlando ho cominciato a fare dei flash un piccolo riassuntino di quella che era diciamo la puntata precedente che hanno curato matteo e davide sulle prime due puntate noi oggi parleremo in generale di tante cose io voglio approfittarne per raccontare tutto quello che penso di questa serie e quindi loro hanno già esaminato questa questo personaggio di bet piccolina che secondo me è fenomenale cioè questa è bravissima mi è piaciuta tanto devo dire che inizialmente mi è piaciuta più lei di quella grande perché quella grande va un po di difficoltà a decifrarla io non sono un esperto in questo settore per cui non lo sai tu che che reazione avuto vedendo l'attrice allora a me sono piaciute entrambe devo dire l'attrice grande estremamente in gamba nel far passare un po questo concetto di una persona che chiaramente è un'attrice di bell'aspetto insomma anche anche una persona di grande talento ma anche una persona con delle grosse turbe con dei grossi demoni quindi a me l'attrice diciamo grande è piaciuta molto certo è che il ruolo da bambina forse ancora più complesso perché in quel caso insomma è anche il background più difficile della della vita di bet parte proprio nella sua infanzia quindi secondo me una grande capacità davvero è di non scadere nei cliché della follia scacchistica che è un tema molto abusato pur mantenendo il tema del libro e del film che è di una persona che comunque ha un percorso molto difficile quindi secondo me entrambe le attrici erano davvero molto molto in gamba entrambe le attrici in realtà poi sono tre perché c'era anche la bambina che aveva due anni no che abbiamo fatto vedere un attimo fa adesso la facciamo rivedere che questa cosa no uno se la dimentica perché comunque io voglio dire invece una cosa questa scena qui ossia quella nella quale bet praticamente vede per la prima volta la scacchiera a me ha molto colpito e quindi io per esempio ti chiedo tu luca ti ricordi la prima volta che hai visto una scacchiera in vita tua credo di sì dico credo perché ero davvero molto piccolo e quindi i ricordi tendono a essere anche un po indotti o confusi però ricordo una scena forse non era proprio la prima ma certamente una delle prime in cui mio padre cercava di insegnare a mio fratello a giocare a scacchi e io insistevo per poter seguire anche se mi dicevano che ero troppo piccolo insomma cioè mi diceva mio padre e quindi ricordo che almeno non so se sia come ho detto indotto ma ricordo che una grande motivazione per me per imparare a giocare da dimostrare che non ero troppo piccolo perché poi tu c'hai tuo fratello che abbiamo conosciuto insieme a te e ovviamente sei il fratello minore quindi ma tra l'altro è molto spesso accade che quando ci sono due fratelli c'è competizione e uno dei due ha un grosso successo e l'altro magari un po demotivato non so se tuo fratello abbia avuto questa reazione che ha un po si è un po disamorato degli scacchi non lo so non credo non credo nel senso mio fratello come approccio agli scacchi era aveva meno un approccio agonistico quindi in questo senso era molto più un approccio scientifico al gioco e magari avremo anche modo di parlarne quando vedremo un po credo l'unico esempio di partita che analizzeremo un po più in dettaglio io credo molto nell'approccio psicologico alla partita e come hai detto tu prima anche all'idea dell'energia durante la partita e per mio fratello invece credo di poter dire che gli scacchi fossero più un attività appunto di studio scientifica e quindi in questo senso una volta che ha cominciato anche a lavorare ha avuto altri impegni semplicemente non era più possibile affrontare quell'aspetto del gioco quindi non so comunque diciamo la competizione tra fratelli esiste davvero da bambini ma nel nostro caso non credo che sia stato un fattore così importante intanto guarda che in realtà ti comunico che la nostra chat è molto viva loro addirittura si stanno facendo le le gli indovinelli fra loro quindi la cosa è simpatica ercole 55 addirittura ci parla di asperger allora non è che gli scacchissi adesso sono tutti problematici alcuni sono problematici altro fa altri fanno i ricercatori a livello mondiale quindi non mi pare che siano tutti così problematici sicuramente qualcosa c'è però io volevo tornare qua perché volevo già introdurre un primo argomento di commento del film secondo me il film è strepitoso su moltissime cose una delle cose per le quali è fantastica è la reagia regia e scenografia se voi guardate come espon come fanno vedere questa prima scoperta della scacchiera vi ricordate c'è lei che cammina e attraverso questo 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 armadio questo armadietto intravede solo lui ma non vede i pezzi cioè c'è l'alone di mistero ancora prima che si scopra la scacchiera e quindi mi ha colpito perché almeno per quanto riguarda me io ho avuto questa percezione ossia mi ricordo perfettamente la prima volta che ho visto una scacchiera e mi ricordo perfettamente che mi ha dato una botta terribile nel senso che ho avuto un impatto pazzesco e io ho visto tra l'altro mio padre mio zio che giocavano ho visto lateralmente la scacchiera al centro queste due teste chinate sulla scacchiera e io non ho visto loro due che giocano ho visto uno scontro fra due menti che combattevano nel silenzio totale e questa cosa mi ha ancora oggi la ricordo e mi ha veramente rapito e da allora mi piacciono gli scacchi quindi sono rimasto molto colpito da questa cosa di better allora adesso tra l'altro stiamo dicendo che stiamo parlando del fatto che il regista è molto bravo e quindi a questo punto io vorrei farvi vedere una cosa ossia questo è il lo sceneggiatore regista e scott frank e come vedete alcuni alcuni film sono molto importanti cioè lui ha lavorato come sceneggiatore con spilberg ha lavorato con con tutti quelli che leggete qui per cui effettivamente è un personaggio è un personaggio di spicco un personaggio importante e qua e qua si vede insomma e questa cosa secondo me si percepisce molto queste sono un po di scene del del dietro le dietro le quinte con che fanno vedere come gli attori alla fine vedete che si divertono sarebbe molto divertente non fare una cosa del genere vedete come chiacchiano e tutto quanto quindi o qui arriviamo al trucco di bet che è pazzesca cioè bet cia cia più facce è difficilissimo da per un uomo c'è ogni volta questa è una cosa molto particolare perché ogni volta si presenta in modo diverso c'è un'evoluzione praticamente di bet tra l'altro questo scott frank e tutti gli altri hanno hanno anche hanno anche fatto dei dei provini molto selettivi per gli attori e quindi vi devo dire che è incredibile però noi abbiamo sfiorato la partecipazione al all'evento perché fra gli attori quelli che avevano provato il ruolo di borgovo incredibilmente non non ci crederete mai ma guardate un po chi c'è c'era anche lui il grande boss che aveva fatto il provino quindi allora rocco si fredi in chat dunque adesso voi avete una prova vedete anche i nostri amici che sono venuti io spero che ci sia anche qualche amico non scacchista che magari è stato invitato appositamente per vedere qual è l'ambiente scacchistico qualche cosa siamo noi veramente vedete che ci si diverte non c'è soltanto lo studio analitico e il silenzio e sono tante cose che noi oggi vi faremo vedere perché la puntata non è dedicata tanto alla tecnica anzi quasi nulla è dedicata agli aneddoti a capire tutti i segreti del nostro mondo questo è quindi zoldan era stato selezionato e luca tu non ci veramente non ci credi ma l'avevano scelto cioè lui a vi stavo dicendo in chat ragazzi lo sapete questo chi era fatta questa opera ormai voi lo sapete il contributo il contributo e luca tu non lo reggi perché tu non sai i nostri i nostri ospiti hanno dei nomi più un po particolari questo nostro amico si chiama arrocco si freddi come nick quindi arrocco si freddi collabora e manda i e manda diciamo le le fotografie come questa qua e quindi stavo dicendo era stato scelto era era sempre scacco no il problema è che lui la è stato scelto e ha litigato con casparo perché si è messo là e ha detto ha costruito tutte le partite e voleva fare tutte viennesi casparo gli ha detto senti non è possibile non è possibile fare tutte viennesi viennesi dall'inizio alla fine della e quindi lui si è offeso ha detto no la viennese è per me il sangue e quindi si è tolto e quindi hanno scelto un altro che sicuramente è molto meno valido intanto facciamo cominciamo a parlare faccio far vedere anche un po la storia la riprendiamo quello che stavo dicendo su bet bet è un personaggio incredibile perché nel film ha un'evoluzione pazzesca passa dall'essere una ragazzina a una donna ovviamente tutta costruita l'arte super truccata mille volte da semplice semplice guardate la qui quando poi dopo è anche un pochettino vedi che rocco si freddi non devi fare i commenti a tema col tuo nome devi essere molto soft nel va bene se no poi non ti ci metto più le le fotografie e intanto leggo un pochettino anche gli arbitri è perché così no scusate gli arbitri quello che state scrivendo qua è così e vi posso rispondere allora a molte forme bet infatti uno dei successi del film io mi sono un po documentato è proprio il fatto che lei fosse un'attrice ma anche modella e quindi a molte facce guardate la qua è praticamente irriconoscibile allora facciamo una cosa mentre vi metto queste immagini anzi no ve le cambio perché cominciamo a riprendere la storia la storia da dove eravamo rimasti l'altra volta così vi facciamo vedere anche un pochettino che cosa succede con sul sul sulla scacchiera perché ripercorriamo ripercorriamo i momenti che che ci sono stati sulla scacchiera se se siamo d'accordo visto che una mezz'oretta ce la siamo chiacchierata che dici luca possiamo andare un po sugli scacchi anche perché adesso dobbiamo parlare dei finali torre pedone contro torre ok allora finale di torre pedone intanto facciamo una cosa mettiamo invece di mettere la foto di bet mettiamo la foto mettiamo cominciamo a mettere le fotografie che accompagnano il nostra storia quindi noi stiamo praticamente con matteo ci siamo fermati qua praticamente siamo all'inizio della terza puntata allora all'inizio della terza puntata raccontiamo a tutti gli amici che non sono scacchisti che qui c'è stato un lavoro enorme cioè per la prima volta c'è stata la consulenza di casparo campione del mondo per 20 anni giocatore fortissimo il top 1 più forti tutti i tempi e anche di pandolfini come consulente ma casparo luca ma tu hai visto casparo il lavoro che ha fatto io non pensavo che avrebbe fatto un lavoro del genere assolutamente sì si è davvero appassionato al progetto chiaramente ha cercato di mantenere il tema sufficientemente insomma televisivo interessante per il grande pubblico ma dando una serie di dettagli sia nella scelta delle partite che non erano partite spesso ovvie che nelle espressioni dei giocatori negli atteggiamenti anche nel pubblico e nelle ambientazioni per esempio penso ne parleremo l'ambientazione negli stati uniti piuttosto quella che assolutamente facciamo il percorso di tutti di tutti i tornei adesso facciamo così la serata la organizziamo così vediamo qualche qualche diagramma qualche partitina per seguire la storia e ogni tanto mettiamo dentro degli argomenti diversi quindi ci divertiamo a commentarli prosegui pure quindi non si vede che casparo a dare all'osservatore allo spettatore l'idea di che cosa possa significare essere presente in un torneo di scacchi qual è il tipo di mimica di atteggiamento di tensione che si accompagna alla partita in questo caso c'è anche l'elemento aggiuntivo che ovviamente è una donna in un ambiente che magari adesso un po meno ma soprattutto in passato era un ambiente a enorme predominanza maschile e quindi anche questo aspetto di pregiudizio nei confronti delle donne ogni tanto appare soprattutto all'inizio dunque questa è la posizione della partita della fotografia che vedete adesso qui io praticamente promesso agli amici non scacchisti che non faremo scacchi magari faremo pochissimi scacchi però racconteremo cosette più divertenti soltanto a livello diciamo così di cronistoria di cronaca questa è la prima partita che voi vedete lì sulla scacchiera che finisce in questo modo quindi il bianco guadagna la torre e arrivederci e grazie vediamo un po come come prosegue il il raccontino perché la partita successiva che cosa succede che c'ha quest'altro signore qua tra l'altro per esempio qui poi la commenteremo sotto l'altro profilo del fatto degli sguardi qui c'è praticamente secondo me non è un errore è una cosa molto negativa che noi scacchissi soffriamo tanto il pubblico questa cosa non la percepisce vediamo se in chat qualcuno qualcuno riesce a dirci qualcosa mentre mentre noi commentiamo la seconda la partita che stiamo vedendo commentiamo la partita vuol dire che facciamo vedere la posizione praticamente la posizione questa qua evidentemente il il nero ha appena giocato uno scacco di scoperta il bianco non si può difendere perché deve togliere il re l'alfiere non solo può difendere quindi poi poi c'è questa cosa un po buffa no perché praticamente se giochiamo questa posizione penso che tutti abbandoniamo abbiamo perso un pezzo e prendiamo matto invece loro per lo spettacolo si prosegue come nei film no come se il giocatore non avesse visto il matto allora qui c'è tanto siamo andati un po avanti con il con i con il vedete questa guardate questa è la difficoltà di gestire questi programmi perché vedete io ho cliccato dall'altra parte sulla partita e sono andati avanti con con questi comunque torniamo un attimo qua in chat vediamo se qualcuno ci dice qualcosa no allora qui c'è un una cosa che hanno i giocatori disturba tantissimo non si può tenere una finestra così col sole in faccia non ci si riesce a giocare considerate che poi il sole gira quindi praticamente ci sono alcuni tornei in cui l'organizzazione non è perfetta alle per dire alle quattro pomeriggio arriva solo così comincia a girare questa è un'ora che che dici luca tu non sei troppo superiore per queste cose è una delle cose più fastidiose in assoluto non conosco nessun giocatore che non si sia lamentato almeno una volta di questo forse nei tornei proprio dell'itma anche in ottimi tornei open in alcuni casi tornei chiusi succede e sono d'accordo con te non è un errore fatto sia per la fotografia che probabilmente aiuta a dare un'atmosfera che perché è proprio quello che succede comunque c'è direi anche non è un errore il fatto che lei guardi lui in quel momento si parliamo aspetta non svelare perché questa te la metto in un'altra cartellina di foto e per un altro argomento perché io qua scusate mi sono sbagliato cioè se non c'entrava niente con gli scacchi no l'altra cosa fondamentale io guardate non sapete quanto soffro non vi posso mettere le basi musicali appena vi metto la base musicale che non sia autorizzata mi bloccano l'audio da da twitch e quindi non si può fare e vi ho messo quindi il titolo quelli che mi conoscono meglio lo sanno perché ho distribuito questo pezzo questo è un pezzo fantastico fatto da quincy johnson in questo caso tira tantissimo ed è usato quando lei arriva a las vegas ma ne riparleremo adesso vediamo qua questo è un altro personaggio che non so se ti è piaciuto non ti è piaciuto primo incontro col personaggio e poi intanto lei arriva a las vegas lui la porta in camera lei tutti sanno che si era praticamente già innamorato intanto domenico domenico zib 60 mi ha detto che non ci sono svarioni e mo ti farò vedere dei svarioni fantastici in questo film perché comunque ci sono qui l'abbiamo visto tutti questa è una delle scene clou lei praticamente innamorata già innamorata persa di quest'uomo che la porta in camera lei fa le fotografie e fa la fotografia sempre più vicino sempre più vicino sempre lo sapevo che andava a finire così è andata a finire così la rapita e proprio in questo momento quando bet si innamora perdutamente arriva il suo amichetto quindi bette rimane il suo amichetto suo di lui quindi lei rimane leggermente male e si rimettono a giocare a scacchi dunque qui c'è una posizione con la scusa di farla e noi buttiamo l'occhio anche su questa posizione la posizione è questa qui è una posizione famosa perché di una partita che le smith love qui c'è da interpretare perché qualche critico sai cosa ha detto ha detto il fotografo lui dice bette vai sulla scacchiera e e gioca bette arriva e fa le mosse e fa le mosse esattamente che sono quelle della partita quindi qualcuno ha detto vedi conosceva in realtà secondo me non c'entra niente questa cosa comunque poi qui c'è praticamente un altro dei momenti tipici no bet prende muove velocissimo e il suo amico di no aspetta 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 vai piano che non ci capisco niente questo è salvato apposta credo che sia stato fatto apposta anzi sicuramente è stato fatto apposta anche se in alcuni casi questo specifico aspetto mi è sembrato un po esagerato nel senso che è abbastanza noto credo un personaggio ovviamente è fortemente influenzato da fisher con tutti i personaggi che parlano di scacchi al di fuori del mondo scacchistico ed era credo descritto il modo in cui fisher analizzava spesso con movimenti molto rapidi e anche ogni tanto lasciando cadere pezzi sulla scacchiera quindi è possibile che si fossero ispirati a questo ma ogni tanto diventa un po inverosimile la velocità insomma la velocità di analisi almeno per me forse perché non sono altrettanto veloce però effettivamente questo è uno dei cioè quello che mi è piaciuto di questa serie è che effettivamente casparo è stato molto bravo come stavi dicendo tu perché fa conoscere al grande pubblico che cosa sono i scacchi e sai io ho letto che lui era era abbastanza scettico pensava di non riuscire in questa sua missione e invece mi sa che c'è riuscito per esempio a tutti è capitato di vedere a me io ricordo una volta quando io ho fatto una fantastica pausa per dedicarmi ad altro nella vita non ho giocato a scacchi nel mio periodo di diciamo giovinezza quando sono rientrato sono andato a vedere un campione italiano e guardate se voi non siete non siete allenati vi prende un colpo cioè vedere i giocatori in un certo livello che insomma forse anche qualsiasi giocatore di categoria magistrale voi state lì che ancora cercate di capire dove si muovono i pezzi ma lo scacchista normale per esempio se io e luca giochiamo ovviamente luca è un'altra categoria però comunque se giochiamo capace che lui mi indica col dito una certa cosa che intende ah ma se giocavi cavallo g5 allora io gli dico sì avrei giocato quella voi non si riuscite neanche a seguire tanta è la velocità di esecuzione e qui c'è un esempio perché praticamente bet è quasi quasi per prenderlo un po in giro prende questa torre in E3 e la posiziona e la posiziona in E3 con una lentezza estrema questa è stata una cosa abbastanza buffa poi c'è un'altra partita che è stata mostrata che però non abbiamo la foto di questa partita perché mi sembrava un po eccessivo però vi ho fatto la collezione di tutte le partite questa è una partita di Greco e Gioacchino Greco quindi tutti sei formato su Gioacchino Greco con la potenza che hai nel movimento dei pezzi forse allora in realtà le partite di Gioacchino Greco mi sono sempre piaciute in generale le partite dei giocatori romantici se vogliamo mi sono sempre piaciute e sono uno dei pochi credo che ha continuato a giocare alcuni dei gambetti insomma un po' più spregiudicati anche il gambetto di Re anche dopo aver avuto un titolo internazionale quindi sì per me sono state delle partite che sono delle partite che guardo sempre con piacere ovviamente l'aspetto tecnico è inferiore rispetto a quello dei giocatori moderni però sono spesso partite molto più divertenti e quindi ho apprezzato anche l'inclusione della partita di Greco ovviamente bene allora vediamo qua se ne potrebbe parlare tantissimo però il succo del discorso è cominciate se siete a livello diciamo iniziale dedicatevi allo studio di queste partite di gambetto perché perché sono sono è fondamentale seguirle in questo modo svilupparsi perché quella è la base e la base è saper muovere i pezzi in un certo modo allora aggiungo una cosa che secondo me il film insomma doveva perché anche credo il libro segue lo stesso la stessa falsariga è l'assenza di pareggi praticamente o comunque il fatto che le partite abbiano sempre un risultato decisivo e questo era molto più comune ai tempi di Greco insomma quindi in qualche modo forse anche meno anacronistico se uno pensa da questo punto di vista mentre le partite dei campioni moderni via dello sviluppo tecnico tendono spesso a finire in parità e forse questa è una delle cose che il pubblico non percepisce perché sembra che uno vinca o perda vinca o perda vinca o perda ma guardate signori che ci conoscete un po' meno che c'è veramente una grandissima quantità di partite che finiscono patta soltanto che sono meno non so scenografiche ed eccitanti no? per cui le hanno praticamente abolite questa è un'altra partita che è stata no questa che vedete nella foto qui c'è un episodio particolare cioè praticamente che succede che Beth incontra un suo avversario futuro che sarebbe il campione americano Benny e qui succede una cosa che adesso Luca ci dici se quante volte l'hai fatto o quante volte l'hai subito c'è questa sorta di infierire sull'avversario che sai che dovrai incontrare perché Benny lo spiego a chi non ha queste queste dinamiche quando il campione americano incontra Beth nella hall qua di Las Vegas lei dice ah hai perso con no no hai vinto con Beltic ma hai sbagliato a fare una certa cosa lei insomma un po' se la prende se la prende ovviamente perché è una femmina quindi non le si può di nulla manco sugli scacchi e invece poi però che fa si siede e va a analizzare perché guardate là come si è messa subito ad analizzare e scopre che quindi aveva ragione il campione americano tra l'altro qui succede una cosa ovviamente la spiegazione che viene data dal campione americano non c'entra nulla con la partita perché praticamente qui dice potevi le dice delle cose che non c'entrano nulla non dovevi arroccare le dice dimmi che caspita c'entra qua il fatto che non dovesse arroccare il bianco se prendeva di pedone lui riprendeva insomma c'è stata una traduzione non proprio fedele però adesso ma perché stiamo facendo la trasmissione ragazzi ci dobbiamo divertire e vi faccio vedere dove il copione non era proprio in linea ci saranno altri punti vedi qua praticamente dice avrebbe avresti potuto perdere e invece e quindi bet questa è la partita che hanno giocato in realtà poi bet vede che avrebbe potuto giocare si accorge che avrebbe potuto giocare c4 e quindi insomma vabbè è sbagliata è sbagliato il film più che altro dopodiché vanno avanti incontra questo famoso ben il campione americano quindi scusa luca ti volevo far raccontare questa cosa io purtroppo devo raccontare tutto quello che c'è per cui se non me lo perdo però in realtà questo fatto di fare pressione sull'avversario secondo me non è fortunatamente così comune però viene usato soprattutto quando secondo me c'è la percezione che l'avversario possa essere un po' più più fragile adesso senza dover nominare diciamo grandi maestri un grande maestro estero che è noto per la sua cordialità e per il fatto di essere molto molto gentile suo padre mi aveva addirittura raccontato che era spesso vittima di questo tipo di pressioni magari prima delle partite perché sapevano che poteva un po' destabilizzarlo quindi purtroppo può succedere però fortunatamente direi che non è poi così così frequente anche nel film comunque non è mostrato in maniera così aggressiva anche se chiaramente lui la sta prendendo un po in giro in quel caso per cercare di destabilizzarlo che poi in realtà è fuori dall'argomento del nostro secondo episodio perché se ne parlerà praticamente alla puntata numero 5 mi sembra quando lui infierisce ancora di più perché la chiama e la massacra blitz in una serata blitz no quindi è quello è stato fatto per questo andando avanti con la scena comunque è qui che finalmente si incontrano si incontrano e quindi la partita è quella che tu vedi qua questa luca non so se tu l'hai mai giocata è una variante estremamente fuori diciamo abbastanza tipica un alfiere di 7 così io lo dico perché una grossa competenza nella siciliana oppure aspetta lo dico perché mi sono andato contro la database perché la siciliana la partita difficile anzi diciamo ai nostri amici che praticamente anzi ragazzi mi avete stufato la siciliana tutte siciliane in tutto il film luca quante volte tu sei un sicilianista lo sappiamo perché la partita più tagliente assolutamente sì ho provato a mettere quel alfiere campo chiaro un po ovunque insomma messo in b7 in e 5 poi alfiere 6 alfiere di sette in questa posizione devo dire non mi è mai non è mai capitato di metterlo però il credo che il in qualche modo lo spirito della siciliana almeno quello che vogliono far intendere loro è proprio quel fatto di provocare cioè è un'apertura in un certo senso provocatoria perché chiaramente definisce obiettivi diversi sulla scacchiera in questo caso è chiaro che il bianco tenderà a sfondare con f4 f5 il nero proverà a reagire sull'ala di donna oppure insomma con una spinta centrale quindi secondo me quello che loro vogliono quello che casparo probabilmente voleva trasmettere è proprio questo continuare un po la presa in giro e continuare a sventolare un drappo rosso per cercare di destabilizzare psicologicamente è un aspetto molto fine magari anche un'interpretazione eccessiva ma io credo sia così è il modo in cui anche casparo va spesso interpretato insomma la siciliana è una battaglia psicologica e qui c'è un altro punto strano perché i nostri amici non esperti non lo possono cogliere praticamente qui c'è bet vediamo se vado avanti un po nelle foto c'è bet che dice quando arriva in questa posizione non so la foto proprio della posizione no cosa siamo andati più avanti quando arriva in questa posizione bet dice è però io qua speravo che lui riprendesse di pedone e quindi mi ero diciamo era proprio come nelle mie previsioni e io ho fatto un attimo una verifica insomma mi sembrava che però la presa di alfiere fosse un po più forte quindi voglio dire se poi ti prendi di alfiere che pre che preparazione ti sei fatta non so se è eccezionale comunque la partita avanti come vedete anche dalla schiacchiera murale e intanto cominciate a vedere l'evoluzione ma adesso ci andiamo subito sull'evoluzione del dello stile diciamo dei tornei così facciamo una piccola pausa scacchistica diciamo così qui c'è una posizione io non mi avventurerei ad analizzarla è una cosa piuttosto strana cioè qua hanno preso questa partita nella quale in realtà c'è una bet molto preoccupata che perde perché bet gioca torre g4 e poi perde ora non ve la faccio vedere perché comunque perde in realtà c'era un modo per pattare è anche super artistico in alcune in alcune varianti mentre chiacchierò lo faccio vedere e quindi è strano che non abbiano scelto questa variante hanno scelta un'altra probabilmente non so hanno cambiato hanno cambiato idea mentre mentre giocavano questa è una patta per ripetizione anche per esempio una cosa del genere un g6 darebbe vita a questa composizione praticamente molto artistica in cui bianco prende patta così questa è soltanto una curiosità cioè come vedete noi stasera cercheremo di limitare molto l'apporto tecnico perché vogliamo parlare del film intanto luca ve lo vi darà anche il suo contributo dal punto di vista della sua esperienza e poi gli lascerò la parola quando analizzeremo in particolare una partita a breve o allora volevo solo aggiungere in questo caso mi sembra che dal punto di vista tecnico come dici tu abbiano cambiato qualcosa l'ultimo momento perché la mossa di cambiare le torri in questo in questo frangente era davvero molto molto naturale e viste le varianti anche abbastanza eleganti che c'erano dopo non è da escludere che magari avessero all'inizio pensato di usare la partita per farla finire in parità e poi abbiano cambiato idea all'ultimo momento sia solo un'impressione perché sembra il cambio delle torri sembra davvero molto razionale in questa posizione quindi perché poi guardate che vedete luca come cerca di interpretare la volontà della regia eccetera ma io sono rimasto molto colpito dall'approccio che ha avuto casparo perché adesso non voglio fare spoiler non della serie che voi avete già visto tutta quanta ma addirittura della puntata dell'episodio numero 3 che farà matteo sull'ultima parte ma casparo ha scelto le partite addirittura per esempio la partita clou lui era indeciso che tipologia di partita faccio una partita che tiene la tensione aperta cioè è un vero torneo di scacchi è una rappresentazione iper fedele di quello che succede sulla scacchiera però visto che tu mi hai parlato di queste cose io allora a questo punto facciamo facciamo un break con le con le partite e parliamo invece di questo parliamo di quello che hai detto tu prima cioè guardate il film è molto bello per non solo per una scacchista ma anche per una persona che gode dei costumi eccetera eccetera ah volevo anche contestare in chat che c'è stata c'è stata una persona questo vivipro 79 che mi ha fatto già uno spoiler su quello che diremo perché ha detto la pressione sull'avversario è la stessa tecnica che bet usa sul ragazzino straniero che colè dolcissimo è vero e lo vediamo fra poco ma è un po diverso perché fino adesso noi abbiamo parlato della pressione che si fa all'avversario prima ancora di incontrarlo cioè voi lo incontrate in un torneo come se io vado a giocare un torneo con luca e vedete che luca che tanto affabile con me adesso se ci incontriamo in un torneo mi comincerà a stuzzicare dicendo ah sì ti ricordi quella volta che non ci ha capito niente e io già sono demoralizzato invece la pressione che fa bet anzi ce lo ricordiamo perché lì non mi è più cioè lì è molto importante è uno dei punti in cui bet è scorretta e lo facciamo vedere al pubblico ma suspense ne parliamo dopo intanto e ammarsà che mi dici tu rocco sifredi mandami scorrettissima sì 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 non ti si secca la gola se volete io bevo un po eccetera eccetera allora e il film no volevo anche aggiungere una cosa su quello che hai detto che corso noi mi sono ricordato che aveva non ricordo chi dicesse dell'episodio che aveva smesso di parlare a una persona durante il il torneo che era un suo collega insomma un altro sovietico all'epoca credo perché forse non era ancora di cittadinanza sovietica e dopo un po di turni aveva ricominciato a parlargli perché questo aveva perso qualche partita e gli ha detto adesso non puoi più raggiungermi in classifica quindi possiamo di nuovo essere amici in qualche modo e parlare e quindi vedete questa cosa quanto è potente cioè quanto l'aspetto psicologico sia fondamentale negli scacchi tra l'altro è un ragazzi scusate se lo dico a chi è già uno scacchista ma ci sono altri amici che magari si stanno un po avvicinando per merito di questa di questa serie televisiva è una sfida fra le menti ma non solo una sfida di logica ma è una battaglia su tutto e ne parliamo anche adesso vi farò vedere la partita di bet con borgo vi farò vedere la faccia di bet che ha fatto quando borgo vi ha cambiato variante ma qui parliamo un attimo di quest'altra cosa molto anche curata perché come hanno curato costumi e scenografie e tutto hanno fatto vedere la normale evoluzione che a tutti noi capita dell'ambiente scacchistico ossia tutti praticamente tranne luca che è un personaggio di spicco a livello mondiale che quindi l'avranno invitato nel circolo col tappeto rosso ma tutti abbiamo iniziato pezzettini di plastica che si scassavano per dire no luca tu dove hai iniziato il tappeto rosso inizia con la cantina qui io ho iniziato con i pezzettini che si scassavano ovviamente come tutti bravo con la sabbia che si rompeva eccetera quindi guardate il film come cosa ci fa vedere ci fa vedere scacchiera guardate questo è molto curato si vede che avevano i consulenti scacchiera di plastica mezza scassata con i pezzi così tutto nella cantina poi i tavolacci di legno e comunque pezzi di plastica iniziano vedete qua quando bet va a giocare questo torneo per esempio qualcuno l'ha notato la mettono vi ricordate che la mettono vicino al caffè praticamente quello è un segnale voi adesso non lo percepite se non fate tornei ma se vi ritrovate in una scacchiera che sta vicino a macchinetta il caffè significa luca che significa è che sta andando un po male è mai primo turno voraccia primo turno al caffè vuol dire che stava in ultima scacchiera dai luca spieghiamo che vuol dire ultima scacchiera così almeno io mi sto un po zitto fondamentalmente le scacchiere sono numerate e nelle prime scacchiere giocano o le persone che hanno il punteggio di partenza il ranking più alto quindi quelli che ci si aspetta giocheranno anche avranno un risultato migliore o durante il torneo coloro che stanno andando meglio quindi giocare sulle ultime scacchiere in generale vicino alla macchinetta il caffè significa che insomma specie se il torneo dovesse essere avanzato che non si sta andando bene che il torneo non è proprio di altissimo livello anche verrebbe da dire quindi e poi una cosa che il pubblico non sa siccome immaginate quando ci sono 100 scacchiere le prime scacchiere quindi dove sono i campioni dove troverete luca saranno diciamo fatte normalmente vengono fatte di pelle umana cioè prendono i giocatori di seconda nazionale e fanno i pezzi però non hanno non hanno le scacchie 100 scacchiere tutte allo stesso livello allora normalmente vengono bisfrattate le ultime gli si mettono i pezzettini brutti tutti i mezzi scassati eccetera eccetera quindi questa è una cosa della stessa dimensione tutti storti uno giallo e uno bianco che tu soffri tantissimo eccetera a questo proposito voglio fare una piccola diciamo così riflessione siccome io sono un po diciamo così fanatico nel senso che mi piace giocare in un certo contesto voglio giocare largo bello eccetera in realtà il covid mi è venuto incontro perché mo non mi mettete più la scacchiera a mezzo centimetro che non posso manco mettere la venna no allora vedete qua questi per esempio sono pezzi di plastica il famosissimo bhb l'oloroggio più utilizzato a livello diciamo da spiaggia che quindi ci denota la grande cura del regista edi casparo nei tornei iniziali guardate com'è l'olorogico plastichetta dopodiché questo è sempre lo stesso torneo però fa vedere che si gioca in una palestra spesso si gioca in una palestra e devo dire vedete guardate la differenza che c'è qua siamo passati a las vegas già è diverso già le scacchiere sono larghe come piace a me sono belle spaziose tavoli singoli pezzi con la scacchiera di legno luca ma tu sei fanatico su sta cosa allora in realtà no non sono fanatico ma ci sono due cose che volevo dire il primo quando giocare un torneo a los angeles che per la prima volta di di questa abitudine americana di portare le scacchiere per cui molte persone portavano la scacchiera da casa veramente uno stile che in europa non non si usa ma che lì era era comune per risparmiare sui costi e quindi si vedeva scacchiere di tutti i tipi e il secondo è una cosa un po no 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 vai poi dopo faccio secondo una cosa un po singolare che è una una cosa che ho diciamo capito un po più tardi ma nell'evoluzione dei giocatori di scacchi perché tutti cominciamo da scacchiere insomma molto scadenti soprattutto da bambini così ci sono due percorsi di solito il percorso del giocatore che diventa più forte per cui la scacchiera nei tornei aumenta di qualità e quella a casa peggiora di qualità diventa sempre più di plastico addirittura sparisce e il contrario in cui il giocatore non diventa molto forte gioca su scacchiere di plastica nei tornei ma scacchiere bellissime a casa è una cosa abbastanza e singolare nel film fanno vedere cioè a me piace moltissimo il film per questo perché è proprio una descrizione della storia degli scacchi dell'evoluzione della nostra vita perché fanno vedere per esempio vi ricordate quando betta arriva all'iscrizione del primo torneo arriva là e le dicono ce l'hai l'oroggio cioè oggi come oggi in italia non esiste che ti chiedono ce l'hanno roggio anche perché ovviamente noi sappiamo io luca che è un vecchio volpone sa benissimo che se arriva uno si porta l'oroggio che è tarato male il suo tempo va più lento quindi non ne parliamo neanche è una cosa che oggigiorno non esiste più in italia non c'è mai stata comunque qui c'è per esempio in questa scena c'è il campione americano che si lamenta si lamenta e dice ma ti pare che io sono il campione americano e devo giocare in queste condizioni qui quanto lo vedi casparov qua è stato bravo assolutamente sì anche se qui sta davvero ripetendo verbatim e le lamentere di fisher fisher aveva su questo bisogna dargli insomma dargli credito e si è impegnato e ha lottato perché gli scacchi in occidente venissero rispettati come un'attività sportiva e per cercare di trasformarli anche agli occhi della gente in attività professionistica e non un'attività insomma puramente ludica da da svolgere in palestre o in locali presi presi a caso quindi su questo davvero sta sta ripetendo quelle che erano le lamentere di fisher e che hanno portato a un grosso miglioramento secondo me della vita dei professionisti di scacchi negli anni 70 e 80 soprattutto in occidente senti allora intanto io saluto maria grazia de rosa che detta anche la nostra regina e lei la regina e queen's gambit e lei è la regina d'italia perché ha la trasmissione più 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 vecchia nel senso che più più rodata è proprio la regina del web è indiscussa e incontrastata e quindi siamo molto onorati della sua del suo giro che ci è venuta a trovare e adesso maria grazia sarà impegnata in questo fantastico campione italiano nel quale c'è luca che da una parte fa l'assoluto perché luca tu ormai sei già vecchietto non puoi più giocare l'under 20 come quando il ragazzino e maria giocherà il femminile e poi ci saranno questi commentatori della fsi che chiaramente non saranno mai al nostro livello che faranno i commenti poi adesso vediamo un attimo chi caspita si inventano allora qua c'è il c'è il campionato americano quindi e c'è o per io tra l'altro ti dico luca che già un torneo così col palco per me già è un altro livello assolutamente sì saluto anch'io maria grazie intanto perché abbiamo partecipato entrambi a una chiamata ai due ore quindi sono contento che sia sopravvissuta anche lei per la preparazione del campionato e sì il palco in realtà è già un lusso la maggior parte dei tornei sarebbero davvero solo delle palestre in cui si gioca nel campo da basket o comunque qualcosa del genere e infatti il campione americano si lamenta ma questa è storia degli scacchi cioè il film e si vede che c'è lo zampino di casparo fa vedere che differenza c'è fra gli scacchi in america cioè niente poi se non ci fosse stato fisher zero assoluto e gli scacchi in russia ma già qua già qua noi siamo a parigi guardate che contesto guardate che contesto c'è a parigi come cambia guardate la sedia come cambia il tavolo praticamente antico i pezzi di legno o io faccio un inciso noi abbiamo purtroppo alcuni rompiscatole in chat ci sta arrocco che addirittura è andata a dire che il lo stile dello stanton nella finale non è in linea con i tempi perché arrocco vedi io ti faccio mettere in contatto con casparo comunque arrocco questa è una domanda che non si può porre la devi porre a matteo il 16 no il 16 oggi il giovedì perché loro faranno l'ultima puntata quindi parleranno di questo in realtà anch'io ho parlato di questo come presentazione perché guardate la differenza che c'è guardate casparov come si è impegnato per far vedere il mondo della russia guardate che roba una meraviglia assoluta il torneo russia è assolutamente sì un po devo dire chiaro che non potevano esaurire tutti i temi però sono secondo me quello che un po manca e spero che un giorno qualche serie ne parli è l'idea del mondo scacchistico sovietico non come un monolite c'è sempre questa questo contrasto tra gli scacchi occidentali insomma per la sfida di fisher contro spaschi quindi sovietici in giacca e cravatta con un'area molto seria con i politici che li sostengono e il pubblico ma non bisogna dimenticare che c'erano anche giocatori come tal che erano dei veri e propri tendi il sistema politico permettendo e quindi secondo me un po perdiamo un po questo tipo di informazione per via della necessaria stilizzazione che ci deve essere in una serie o in un film ma spero che un giorno verrà un po recuperato questo elemento che tra i personaggi sovietici c'erano persone molto al di fuori degli schemi non soltanto dei degli automi in giacca e fatta della scuola scacchistica sovietica ecco a rocco non sono d'accordo con te questa è una sala fantastica rocco ci dice che non sembra una un carcere k gb a me piace molto la il look l'ambientazione eccetera comunque qui avete visto il percorso che c'è nel look un abisso e questo ha caratterizzato sempre la nostra vita anche noi abbiamo cominciato a fare i tornei con sulla spiaggia con i pezzettini tutti piene di sabbia e ora che siamo arrivati nell'elite mondiale io e luca soprattutto io che ovviamente sono nei top ten gioco soltanto con i pezzi lucidi di legno a parte che giochiamo tutti su online ormai non ci sono più i pezzi di legno e quindi abbiamo fatto questo percorso su e sulle sulle sale e però a questo punto io vorrei fare anche un'altra cosa vorrei cambiare completamente argomento e quindi vediamo un po l'attenzione del pubblico in chat ragazzi vediamo quanto siete pronti e vediamo chi è il primo in chat che mi dice chi è questo personaggio qua che personaggio è adesso dovete stare molto attenti che vi sparo un po di quiz uno dopo l'altro è chi è questa donna forza vediamo vediamo se qualcuno lo sa vediamo se qualcuno lo sa non vi posso sta due minuti e quindi se non lo sapete la mia fidanzata giusto e la rocco la rocco ha detto che la sua fidanzata ti piacerebbe non lo sanno vedi che non lo sanno stanno facendo dei commenti guarda luca stanno facendo dei commenti che che io non ripeto allora questa è quella che avrebbe questa si chiama ellen page ed è obiettivamente secondo me come donna è un altro livello rispetto all'attrice è quella che avrebbe dovuto fare il film perché chi la voleva in questo film chi voleva fare questo film questo signore qua chi mi riconosce questo signore qua vediamo chi mi riconosce questo signore qua questo è quello che voleva fare il film ragazzi non mi dite che nessuno sa chi è questo è iper famoso ragazzi forza 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 no c'è sitalia senti c'è sitalia forse c'è sitalia tu sei il direttore non puoi uscire a dare il quiz perché adesso il premio da un milione di dollari chi lo diamo allora complimenti per la cultura eccolo lui poverino era stato affascinato dal film non lo so se era affascinato dal film o era affascinato da questa donna però aveva deciso che avrebbe fatto il film usando questa attrice ma perché legger se si pronuncia così era così affascinato perché lui in effetti aveva dei problemi non so se tu luca lo conosci come personaggio io praticamente nulla ho visto solo joker un pochino però aveva dei problemi siti dipendenze credo quindi magari anche quello aveva potuto attrarre verso la storia che io sappia almeno quello che posso sapere e infatti se voi adesso io dico questa cosa come se lo conoscessi benissimo ripeto ho visto soltanto joker quindi non lo so però lui è stato affascinato dal personaggio di joker inquietante no particolare ma è stato parimenti affascinato dal dal personaggio di bet e voleva fare il film e poverino non c'è riuscito perché come tutti sapete poi è deceduto quindi non c'è più ma sveglia in chat perché ragazzi qua non avete indovinato ha indovinato soltanto matteo non conta adesso altro quiz ragazzi vediamo i più attenti mi dove chi mi dice che cosa vede in comune tra questa scena e questa scena vediamo ragazzi chi mi dice che cosa vedete in comune vediamo con quanta attenzione guarda c'è 24 italia non rispondere perché se no ti banno fai rispondere al pubblico chi è che ha visto bene il film e si ricorda guardate è un film incredibile non c'entra niente un uomo una donna no rocco si freddi è leggermente più complessa la cosa se no ti potrei dire che c'è non mi dire che c'è la scacchiera in mezzo perché mi sembra eccessivo allora nessuno nessuno lo sa ragazzi qua i due è un è un giochino questo qui lui dice la stessa cosa che bett dice qui è buffissima questa cosa chi lo dice ragazzi ho chiesto ho chiesto qual è la cosa che accomuna queste scene e sto dicendo che il personaggio del custode dice una frase che è la stessa che bett dice qua ragazzi nessuno ha visto bene il film allora è un ricorso storico qui il custode quando quando bett è titubante perché deve salire su un classe le dice ora o mai più e siccome le femmine se lo ricordano questo nella vita qui questo poveraccio che tra l'altro è un personaggio che a me piace un sacco lei le dice ora o mai più bravo bravo in chat vedi il mio amico ghezzi simpaticissimo e affezionato e e quindi questa ora o ma più secondo voi che cosa fa questo personaggio dopo ora o mai più la bacia quindi ragazzi comunque non avete indovinato neanche questa ma io ve ne sbatto lì un'altra di di quezzetto chi è questo personaggio qui questo vi dico luca non so se tu lo riconosci c'è un piccolo trucco nel senso che non è proprio fedele diciamo così all'epoca del film questo è uno dei miei personaggi preferiti c'è un personaggio minore che io trovo fantastico fantastico non mi devi dire che personaggio era nel film che personaggio è nel film questo vediamo se qualcuno lo riconosce però vi ho fatto il trucco perché in realtà c'ha trent'anni di più nel film chi è è una io l'ho visto il film quando ho visto ma che borgo quando ho visto questo qua mi sono ammazzato questo qui è un fenomeno luca te lo ricordi non avrei mai riconosciuto però però questo qua quando bett entra dentro questo emporio c'è una faccia con quel sopracciglio che si alza e la guarda è meraviglioso l'edicolante si il droghiere sì ragazzi non mi potete indovinare dopo che ho messo la foto me la domina prima bocciati tutti nessuno ha indovinato e quindi comunque questo è l'esempio del fatto che il film è fantastico i personaggi minori sono fantastici io li trovo bravissimi tu che dici luca c'è qualcuno che non ti è piaciuto anche no in realtà no ma anche i truccatori devo dire sono stati bravissimi perché davvero non l'avrei mai riconosciuto è vero che non sono neanche la pigiagnomica ma assolutamente no c'era vent'anni di più più o meno luca guarda è come quando tu arriverai alla mia età ma chi ti riconosce più queste vedete adesso vedete luca ha detto una frase tipica di quando ti incontra in torneo cioè ti dice una cosa così tipo questo è vero tu sei smontato se c'è te devi buttare al fiume c'è più possibilità allora e scacchissi sono tutti inventati borgo non sono mai esistiti no non sono mai esistiti non so se hanno se hanno preso spunto da giulio borgo per creare il nome borgo seppure però sarebbe stato simpatico allora poi altro indovinello questo è facile ragazzi questo è uno dei punti più diciamo significativi che succede qui in ascensore che cosa che cosa succede in ascensore cosa dicono i russi su bet forza 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 se non ve lo dico io tutte lo ricordi luca che cosa dicono i russi su bet no questo non lo ricordo allora dicono una cosa molto importante prima di tutto better e ha studiato il russo quindi a parte che non la vedono quando entrano dentro al ecco bravo arrocco bravissimo arrocco arrocco per premio ti faccio mandare un una foto che io pubblicherò la prossima volta mi puoi fare tutti collage che vuoi sempre con l'attenzione a non coltivare interessi che sono simili al tuo nome allora qui come dice arrocco dice una cosa molto importante ci sono state due frasi che mi hanno colpito nel film questa diciamo fortunatamente per me non non mi trovo molto nell'altra tantissimo e infatti per quello che sono una pippa a scacchi perché qua dice lei è un orfana è una sopravvissuta e dice è come noi no per lei perdere non è contemplato perché la durezza di vita ha fatto forti russi stanno nella neve è tostissima e mi ricorda mi ricorda il primo russo super famoso il primo veramente professionista russo che c gorin che in realtà era un orfano stava in orfanotrofio l'hanno buttato fuori dall'orfanotrofio perché aveva c'era uno un po tiranno e loro in gruppo l'hanno croccato de botte fin quando hanno buttato fuori cicori dal cicori dall'orfanotrofio comunque ho fatto uno spoiler e scusa per una piccola parente ho fatto uno spoiler perché sappiate che io farò un corso sulla storia degli scacchi e sulla strategia legata alla storia quindi mi è venuto in mente questa cosa di cicorin a breve informazioni su questa cosa ma torniamo a noi quindi questa frase che è veramente importante perché chi ha successo nella vita scusate nella vita scacchissima sono quelli che si ammazzano di fatica sulla scacchiera oppure dovete avere un genio smisurato come il nostro amico luca che fa lo scienziato e quando si sta lì che apre la doccia per mentre aspetta che diventi calda l'acqua lui si studia un po di varianti poi balli vince tutti i tornei che dici grazie però scherzi a parte insomma sono d'accordo con te che molti e molte delle persone che hanno raggiunto le vette negli scacchi avevano delle storie complesse però per esempio ci sono delle eccezioni capa blanca era di ottima famiglia però come dici tu aveva un talento incredibile carlsen che forse il giocatore più vicino a capa blanca che posso immaginare che io sappia non ha avuto un percorso così duro dal punto di vista della sua vita però sì è vero che i giocatori sovietici giocavano con un altro tipo di motivazione e spesso giocavano ben più di una partita perché sono note anche le ripercussioni di tai mano per aver perso contro fischer quindi la loro qualità di vita è spesso in alcuni casi addirittura loro libertà personale poteva insomma essere collegata a una partita o match quindi su questo devo dire non ricordavo la frase del film e mi trovo completamente d'accordo senti luca l'altra frase del film che nella quale io mi sono trovato molto in linea è stata quando bet ha detto una cosa che secondo me tutti noi scacchisti pensiamo ossia lei ha detto alla giornalista io in sostanza traducendo un po ha detto io qua mi trovo a casa mia cioè nelle 64 caselle io ho il controllo è tutto sotto di me e poi ha detto un'altra cosa fondamentale che è la cosa per la quale gli scacchi sono educativi nella vita e quindi per i ragazzi che se perdo ho sbagliato io non ha sbagliato il il mega capo dell'università che ti ha mandato da una parte o dall'altra o il politico di qua o il giudice di là o quello di la o giornale sa qua ho sbagliato io e questo è quello una delle cose che a me affascina degli scacchi perché l'impegno e che voi mettete è premiato se voi perdete siete stati voi a perdere non è un altro che dici sono perfettamente il gioco democratico per eccellenza da questo meritocratico e democratico per eccellenza e in qualche modo devo dire uno degli aspetti che mi hanno anche attirato molto gli scacchi anche dopo che ho cominciato a insomma lavorare all'università era proprio che per quanto la ricerca scientifica sia meritocratica non esiste nessun altro campo che io conosca che dipende così specificamente proprio dal dal dall'impegno e dalla capacità che uno ci mette senza interferenze politiche economiche sociali è un gioco davvero per quanto possibile insomma davvero meritocratico e quindi aiuta anche i bambini su questo sono d'accordo e la funzione educativa migliore aiuta i bambini a capire a collegare il valore dell'impegno con con i risultati e l'importanza del prendersi le proprie responsabilità insomma aiuterebbe anche molti adulti secondo me quindi considerato aiuterebbe molto molti adulti la differenza è che l'adulto non lo correggi quindi il bambino il giovane e la cosa è formativa con l'adulto no non ce la fai ma non vi distraete qui c'è un altro quiz ragazzi perché vi ho messo questa foto qua voi mi dovete dire chi è questo ma mica vela vela così vela passate semplicemente dicendo questo è il direttore del torneo in cui betta arriva che è mezzo ubriaca non mi frega di questo mi dovete dire chi è l'attore forza vi do 15 secondi 30 secondi scommetti che nessuno lo sa ragazzi se non lo sapete non avete studiato chi è questo secondo me non lo sa neanche luca lo cogliamo in castagna vediamo se in chat si svegliano forza 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 no niente niente proprio niente niente ragazzi luca tu non lo riconosci questo qua non lo sai perché non hai studiato quanto dovuto studiare io questo se non è difficilissimo assolutamente non lo riconosco anche se zoom no non lo puoi riconoscere questo ragazzi questo è bruce pandolfini che è stato messo come hitchcock che fa una compazzata quando passa in treno no che tu e lui hanno fatto questo maggio e l'hanno messo lì o io dico una cosa giusto la frase in ascensore è ma avete riconosciuto perché però quelle l'ispettore callaghan allora e niente adesso vi devo fare quest'altro quiz queste perché oggi ci dobbiamo divertire sul film ci dobbiamo divertire e dove e quindi ci dobbiamo divertire quindi ditemi qua secondo voi che errore c'è se c'è un errore c'è un errore qui secondo voi vediamo in chat vediamo in chat io se volete se non mi dite che non vedete bene perché ve lo posso ingrandire no non ve lo ingrandisco se no poi no non ve lo ingrandisco lo lascio così allora 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 loro roggio ma guarda senti lo sai che a rocco si freddi ha vinto un altro premio perché a rocco si freddi ha scoperto che loro roggio è caduto wow si vede pochissimo ma la banderina caduta no no manca il distanziamento dice c'è il il boss ma non è questa a rocco si freddi a guarda a tre minuti a rocco si freddi ha dato la risposta giusta ma sbagliata cioè ha detto a destra del bianco non è così c'è la banderina caduta e allora però voi mi direte vabbè avete sbagliato va bene ok perfetto allora ditemi questo qual è questa è la stessa scena e non è più l'oloroggio cosa c'è qua di sbagliato cioè qui non c'è alcun errore vi dico questa cosa non c'è alcun errore lasciate perdere destra sinistra ma non vedrete una scena così in un torneo lampo in un esibizione lampo e non match lampo se giochiamo io luca in un luca scita e sciuta e giochiamo lampo non giocheremo mai così perché ragazzi sbrigatevi forza siete 80 in chat qua chiacchierate dite 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 niente nessuno che scopre o loro oggi la parte sbagliata flaviano ma è sbagliato prima è sbagliato pure adesso allora ragazzi vi spiego questa cosa si vede che siete tutti giovani siete tutti i plexi class sindaco 94 manca il press che ha ragione ma che prese allora ragazzi questa è una finezza giusto perché ci dovevamo divertì ma secondo voi ma se giochiamo un match lampo magari due minuti ma secondo voi il bicchiere pieno d'acqua pure di plastica o quell'altro ma dove lo mettiamo davanti all'oroggio guardate poi giocatore come costretto a schiacciare l'oroggio ma così il bicchiere va per terra dopo l'apertura è che finezza luca tenere accorto di questo assoluto questo sì in realtà perché talmente fastidioso che si sente proprio un fastidio fisico a guardarlo quindi cioè è come se no vedi una cosa in bilico non la reggi cioè non ci riesce a giocare col bicchiere pieno lì no casca sicuro è proprio finirebbe stato tolto dopo la allora ragazzi sì si mette si mette dalla parte sinistra giustamente allora ragazzi questa è facilissima ditemi che cos'è questo edificio nel film forza ragazzi questo è facilissima vediamo un po se qualcuno riconosce se questo edificio sta nel film e che cos'è sbrigate 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 forza forza nessuno riconosce dai questa questa è non è difficile su guarda mica rispondono eh l'hanno visto in maniera molto orfanotrofio da no allora no questo è la risposta è sbagliata non è il collegio no no non è il collegio non è il collegio se questo il collegio vi faccio vedere il collegio qual è casa di carlo a roma giustissimo è casa mia questa è casa mia perché il collegio non è questo vi sorprende questo fatto il collegio non è questo guardate bene questa foto è l'avete vista bene 5 4 3 2 1 via ecco il collegio questo è il collegio che cosa avete notato molto divertente questa cosa nessuno ha notato niente allora ragazzi visto che la torre bravissimo fabbio edoardo luigi alberto che siccome hanno gli hanno detto senti ragazzi andate su twitch stasera e quelli hanno detto erano in gruppo hanno detto no ma dai non ce l'ha defa un account tutti allora ci vediamo tutti insieme facciamo un account solo facciamolo per fabbio edoardo e luigi alberto e lui si chiama così si chiama fabbio edoardo luigi alberto allora bravissimo è la torre guardate la differenza perché è così perché il film è ambientato è ambientato nel tentati che caspita c'entra il tentati con una torre tipicamente europea dell'euro dell'europa del nord meravigliosa che io amo tanto la vedete quella torre quant'è bella quella torre con la parte nera sopra chi è guarda che fine gli hanno fatto fare è che chicca è che chicca e quindi eliminata completamente col computer è incredibile e qui comunque io devo dire una cosa adesso io praticamente è inutile che vi faccia queste cose che nessuno ma zecca mai niente ma avete azzeccato soltanto soltanto basta sono finiti quiz basta non vi parlo più non ne avete azzeccato uno è uno solo senti però adesso sai che facciamo dobbiamo proseguire la nostra storia allora proseguiamo la nostra storia e facciamo così io allora qua ci mettiamo un po di foto fammi pensare no ci mettiamo le foto della storia perché dobbiamo proseguire la storia che mi piace tanto allora e noi stavamo qua andiamoci riprende le partite da qua e praticamente lei perde questa partita va a casa poi qua fa vedere alla mamma la scacchiera questa poi ne parliamo anche dopo analizza questo finale perché giustamente luca tu sai benissimo che noi quando facciamo un torneo il giorno prima del primo turno non sappiamo l'avversario no e quindi non ci possiamo preparare luca spiega un attimo così che succede prima del primo turno normalmente nei tornei open gli accoppiamenti insomma la decisione di chi giocherà contro chi viene deciso mezz'ora o un'ora prima del primo turno quindi il giorno prima non è davvero possibile prepararsi c'è l'eccezione di alcuni tornei che si chiamano chiusi insomma in cui c'è un numero limitato di persone che giocano solo fra di loro e in questo caso i turni vengono noti anche prima ma nella maggior parte dei tornei i turni sono noti almeno il primo turno è noto solo poco prima dell'inizio delle partite e quindi lei dice alla mamma mamma non mi rompe le scatole vuoi andare a fare la passeggiata io mi devo preparare e lei dice ma ti pare che io il giorno prima mi metto a studiare i finali i finali i finali mamma cosa mi paghi metto a studiare i finali tra l'altro lei dice questo dice devo studiare i finali luca questo ti pare un finale questo è chiaramente uno studio e tra l'altro come vediamo qua solo io e te perché siamo raccomandati è uno studio anche molto famoso soltanto che guarda diciamo così che neanche lo faccio vabbè lo facciamo vedere un attimo lo facciamo vedere un attimo è praticamente uno studio è che va così è così è così è così guardate che mossa cioè questa è una mossa fantastica cioè chi in partita qui analizza donne 4 praticamente è basata sullo zuzvag e poi va va bene lo studio è molto famoso però quello che io segnalavo che insomma l'hanno messa lì sulla scacchiera però è poco non ha tanto senso per quanto riguarda il film allora che succede che lei dopo che ha studiato questo la mamma dice senti però ragazza tutte devi pure rilassare non puoi andare a giocare con la tensione così e 15 usciamo andiamo fuori andiamo a farci la passeggiata lei si va a fare la passeggiata e quindi incontra questo borgo che sta guardando questo mi pare che fosse uno zoo e qui c'è un altro elemento storico scacchistico perché borgo sta con la sua famiglia vedi c'ha il bimbetto c'ha la moglie o la sorella sarà la moglie e poi c'ha due personaggi loschi che stanno dietro di lui ma secondo te luca questi chi sono staranno i secondi invece sono quelli praticamente gli uomini della scorta perché i russi praticamente nel film voi noterete che a un certo punto quando è sconda l'ascensore mi sembra dice ma chi sono quei due sono quelli della scorta ma la scorta per i russi non era fatto perché dite voi mi direte ma chi ne frega niente a nessuno dei russi non è che uno va là l'ammazza la scorta per i russi non era perché l'ammazzavano ma perché quelli se scappavano se andavano all'estero siamo negli anni della guerra fredda siamo prima della guerra fredda prima dei di fisher no e quindi se e corso noi tra l'altro era davvero espatriato così abbandonando la famiglia peraltro quindi non era così assurda come preoccupazione ma spesso i coloro che controllavano cioè gli iscritti al partito erano anche scacchisti ed erano anche coloro che riportavano i risultati delle partite questo era molto comune nel partito comunista che il vertice della federazione fossero scacchiste egli stesso e ci sono vari aneddoti anche gustosi perché per il modo in cui veniva un po anche preso di mira bonariamente quando si poteva dai giocatori stessi quindi le due figure in realtà non erano poi così c'era che io sappia abbastanza raro che un personale del kgb fosse controllarsi scacchisti erano di solito persone del partito che erano a loro volta scacchiste anche se non erano magari dei campioni come coloro che venivano controllati e comunque siamo sono stato immediatamente corretto in chat perché uno dei nostri solidi frequentatori mi ha subito corretto ha detto quella era la traduttrice la traduttrice quindi non la moglie vedi c'è chi studia qua c'è chi studia andiamo avanti perché qua è lunghissima la cosa e arriviamo luca però mo dobbiamo decidere quanto tempo vogliamo dare a questa famosa partita perché siamo arrivati alla famosissima fischer larsen fischer larsen che finisce in questo modo qui cioè nella scacchiera noi vediamo questa 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 mossa e il nero abbandona possiamo dedicare un minuto assolutamente non abbiamo bisogno di dedicare tantissimo tempo alla parte tecnica perché come abbiamo detto non è quello l'obiettivo però è interessante come partita appunto larsen in questo caso sceglie la siciliana e in particolar modo il dragone come si vede dopo la mossa g6 qualche mossa qualche mossa dopo è il motivo per cui secondo me la partita è molto interessante è perché spiega molto bene sia la psicologia di fischer come giocatore che la psicologia di fischer come analista come scrittore perché questa è una delle partite secondo me più interessanti del famoso libro di fischer mai 60 memorable games le 60 partite da ricordare insomma e il motivo per cui spiega bene la psicologia secondo me è per il commento che fischer fa sulla scelta di larsen dell'apertura ovvero egli nota come il dragone secondo lui è già all'epoca insomma fosse un'apertura semi confutata che è un'esagerazione direi come come spesso anche capitava insomma a fischer anche su altre aperture ma il motivo per cui lui sconsiglia di giocare il dragone è perché il gioco del del bianco è molto naturale e secondo me quello che parlando un po anche della mia esperienza abbiamo discusso un po prima dell'approccio agli scacchi credo molto in questa cosa che un po anche se vogliamo dal film ma non del tutto che l'obiettivo in qualche modo del dello scacchista sia proprio giocare meglio del proprio avversario e non necessariamente giocare bene comunque adesso hai mostrato insomma le le prime mosse del dragone fischer sceglie l'approccio più aggressivo che quello dell'attacco jugoslavo quindi consiste nel arrocco lungo che immagino sia anche quello del nostro ascoltatore e insomma è seguita anche dal fiere c4 il cui obiettivo è evitare la spinta in d5 del del nero fondamentalmente qui si può vedere che il strategicamente la partita è molto ben molto ben definita ovvero il bianco punta un attacco sull'ala di re il nero cerca di contrattacare sul sul arrocco avversario sul lato di donna la diciamo la grossa differenza a mio avviso che è quello su cui anche fischer pone l'accento e che le mosse del bianco sono solitamente più naturali ovvero non c'è bisogno di inventare praticamente nulla è un attacco che si si svolge quasi da sempre il momento critico della partita dal punto di vista tecnico viene qualche mossa dopo alla mossa 14 nel momento in cui fischer sceglie di giocare cavallo d5 alfiere per d5 che la mossa corretta alfiere per d5 e che una scelta in realtà dubbia però qui larsen sostiene nelle sue analisi per quanto non so quanto sia poi una ricostruzione a posteriori che aveva fatto di aver giocato per vincere non dimentichiamo che questo è un torneo che comunque qualificava insomma le fasi successive del del titolo mondiale e larsen in quel momento stava giocando con fischer ragazzino e stava anche giocando per cercare di qualificarsi quindi larsen sostiene di aver evitato di prendere l'alfiere campo chiaro per giocare per vincere tuttavia e penso sia anche abbastanza istruttivo la scelta di giocare torre c8 in questo caso è probabilmente già un errore perdente non solo perché la posizione insomma è oggettivamente brutta per il nero ma nuovamente perché il gioco del bianco è molto molto intuitivo quindi fischer conserva il suo alfiere campo chiaro e addirittura scherza nelle sue analisi dicendo che tutto quello che il bianco deve fare è spingere h4 h5 zack zack un sacrificio e poi matto che non è poi molto distante da da quello che avviene nella realtà il problema è che il nero ha un unico piano che cercare di spingere il pedone a verso a4 e questo piano è di fatto troppo lento per per consentire al nero di creare abbastanza contro gioco infatti le mosse successive sono tutte piuttosto naturali adesso l'arsen prepara la spinta in a4 ma fischer è già arrivato praticamente con h5 e qualsiasi tentativo di prendere il pedone in h5 porterebbe poi all'apertura della colonna h con un attacco devastante ma anche il tentativo di diciamo ignorare la minaccia quindi si cavallo per h5 g4 e di fatto pure anche g per h5 sempre g4 perché comunque in quel caso ancora peggio forse perché sì forse si amano tutte e due sì esattamente e quindi l'arsen ha provato a ignorare questo creando un qualche contro gioco ma anche qui le mosse sono tutte molto naturali g4 l'ultimo pezzo gli ultimi due pezzi che difendono il re sono il cavallo e l'alfiere e quindi fischer punta a eliminare entrambi adesso l'arsen prova ancora qui l'ultimo contro gioco insomma qua possiamo ricordare al nostro ai nostri amici che di solito questo pezzo che tra l'altro vedete che serve molto a difendere noi l'abbiamo detto tante volte il bianco quando gioca al centro mira a mettere un pedone in e 5 per disturbare il cavallo nf6 qua in realtà non potendo giocare col pedone gioca gc4 g5 per fare la stessa cosa e toglie tra l'altro anche gli alfieri di campo scuro effettivamente quindi l'arsen prova con a5 e qui c'è il momento interessante appunto fischer sacrifica la qualità questo sacrificio è pericoloso sempre perché comunque indebolisce tanto l'arrocco del del nero ma in questo caso è devastante proprio perché l'arsen non ha eliminato l'alfiere campo chiaro nell'unico momento della partita in cui poteva e quindi questa inchiodatura di fatto decide decide l'incontro l'arsen è costretto a prendere g6 e visibile anche a occhio qui che insomma il re del nero è praticamente già una rete di matto l'arsen prova e 5 che un tentativo disperato in genere quando si gioca e 5 con l'alfiere in fianchetto dal punto di vista strategico la partita è già insomma molto molto compromessa nel dragone è una mossa che non ricordo nessun caso in cui sia davvero una mossa che il nero fa volentieri nella siciliana del dragone e però è comunque troppo tardi quindi anche tentativi di appunto preservare il piccolo vantaggio materiale adesso con re f8 di fatto si scontrano contro il numero enorme di debolezze quindi il pedone di 6 adesso è in presa e il bianco minaccia semplicemente di togliere l'ultimo difensore che è l'alfiere camposcuro quindi la partita di fatto dura soltanto poche altre mosse e di 6 apre nuovamente la diagonale dell'alfiere attacca la torre di fatto il nero non può nemmeno anche la spinta del pedone in d7 di 8 adesso è una minaccia la partita è fondamentalmente già finita fisher cattura e qui ci sono vari modi da remato modo forse un po carino che vale la pena dimostrare era un po prima giocando donna h6 scacco quando il pedone era ancora in d6 adesso invece che d7 si c'è questo trucco divertente donna h6 scacco e se donna g7 torre g1 che fondamentalmente un piccolo trucco uno scacco matto divertente ma di fatto la partita è già è già conclusa e infatti larsene abbandona una mossa dopo e abbandona quando nel film abbandona anche l'avversario di bet tra l'altro qui luca tu non so se hai colto questa sinergia meravigliosa fra noi e la chat perché ormai siamo a livello che in chat fanno le domande io rispondo mentre tu parli e faccio le freccine quindi è fantastico quindi abbiamo fatto vedere perché il bianco giocarebbe uno perché protegge il pedone in a2 che senza l'alfiere sarebbe diciamo non più difeso e soprattutto toglie il re dalla colonna c l'unica colonna aperta del nero è la colonna c non sto parlando di questa posizione sto parlando della posizione molte mosse prima e quindi addirittura quando giocarebbe uno torniamoci un secondo perché giustamente se qualcuno me l'ha chiesto vuol dire che vedete dice perché giochi re b1 perché qui c'è una colonna aperta e qui quando andranno via questi due pezzi non possiamo consentire alla donna di arrivare in a2 quindi re b1 è sempre una mossa molto sana molto normale certamente ricordatevi che qua si sta correndo questa è una corsa dei 100 metri quindi se re b1 non serve non la dovete fare soltanto che il bianco sa che quando si aprirà tutto non avrà più tempo di respirare né lui nel nero quindi deve partire all'attacco quando sta messo bene e allora giocano per giocare b1 dunque cosa forse importante da dire è che in questo tipo di strutture quando se il nero decide per primo di prendere l'alfiere campo chiaro visto che si è rivelato anche così pericoloso la ripresa c per b3 di fatto è nota empiricamente perché quando ho imparato questo tema mi ha davvero sorpreso e quella struttura di pedoni con il rein b1 è quasi impossibile da da attaccare è semplicemente molto solida e quindi anche lì il bianco generalmente per quanto il finale che come abbiamo visto bev aveva già studiato il finale possa essere diciamo positivo per il nero di solito il nero non arriva a giocare questo finale perché l'attacco del bianco è molto semplice mentre questa struttura con i pedoni doppiati è particolarmente difficile da attaccare bene bene allora abbiamo visto questa partita perché effettivamente ne vale alla pena quella successiva è anche una partita storica quella successiva è questa qua questa adesso ritorniamo in modalità aneddoti questa è una cosa molto singolare cioè la partita che vedete è la casparo vambeli in cui casparo in realtà guardate io ho fatto due freccine qua e voi mi direte carlo ti sei confuso non sai bene le regole perché il bianco o fa una mossa o fa l'altra mossa eppure il bianco l'ha fatte tutte e due nel senso che in partita casparo ha giocato donna e storre e sette e toccava il nero ma qui siccome casparo era il consulente lui voleva infierire ancora di più su vambeli ha detto ma mi piove un'altra mossa boom donna f7 in più si era inventata vedi che c'è donna f7 in più questa è una chicca che abbiamo scoperto questa altra qui è un'altra partita molto famosa sempre di indovinate chi o dice quello l'hanno preso ha detto oh ma avete preso come consulente e mo mi scelgo le partite mie io e quindi ha scelto la partita anan casparo guarda anche buffa no perché casparo gioca torre di otto con l'idea di togliere la torre perché praticamente deve deve bloccare proteggere cioè scusate si mangia il pedone di sei dopodiché quando il bianco se ne va per attaccare questo gira con l'altra torre e qui addirittura anan abbandona subito però questo è soltanto per la ricostruzione storica poi c'è qui l'altra partita che invece segue nel torneo e qui intanto però vi faccio vedere una cosa vedete che qua questa è il questo il torneo in mexico city qui già ci sono loro oggi più belli di legno un po più seri qui vedete luca io non lo so se il tuo avversario ti fa così se giochi tutta la partita con l'oroggio storto lo rimetti a posto dopo un secondo che fai tu o un millisecondo lo rimetterei a posto e se io te lo rimetto di nuovo a quel punto finisce giustamente a pugni ecco infatti questa è una cosa terribile non ne parliamo perché effettivamente è un problema perché ho tutta la vita ho cercato sempre di evitare dove facciamo finta che non fa possa però poi mi nervosisco soltanto quindi a un certo punto se non lo fa apposta va beh parliamo di altro comunque questa è una posizione molto famosa che i miei allievi del mister chess mi devono riconoscere per forza perché abbiamo fatto il workshop sulla struttura sul sulla struttura sui hanging pawns questi sono gli anzi ma i family fa in giallino mi piacciono di più hanging pawns cioè i pedoni sospesi fra tutte le varie strategie da adottare con i pedoni sospesi la strategia un po meno frequente è quella di attaccare su questo pedone qua adesso questa è una pillolina avevo dovuto buttare così per forza perché non ce la facevo a trattenermi però vedere questa mossa come tutti i nostri mister cessiani riconosceranno perché l'abbiamo studiata serve a fissa e la debolezza non vi parlo delle altre delle altre varianti perché non ci interessa poi luca sennò si addormenterebbe perché lui queste cose se le già le aveva studiate quando aspettavo che l'acqua diventasse calda e quindi non c'è ne frega niente allora vedete che io qua ho fatto una cosa fantastica perché quando tu clicchi se guardate è complicatissimo qua è se vi sbagliate a cliccare una cosa scoppia tutto allora qui la partita è una partita molto carina perché è però c'è un errore c'è un errore notevole allora c'è perché casparo evidentemente casparo gli ha detto guardate qui questa è un'altra chicchetta allora casparo gli ha detto mettete questa partita che fantastica anzi vi faccio prima vedere la partita guardate va così e qui a un certo punto questa è una partita famosissima bernstein contro capa blanca capa blanca il nero qui a un certo punto capa blanca c'è un pedone passato però sembra che ben stai vedi qua sta provando a ripetere e dice ma per se solo va a mangiare capa la casa è sbagliato questo si è pappato il pedone quindi nel film il l'avversario di betta era tutto contento che si era pappato il pedone adesso c'è questo cambio e qui ben stai pensava di aver visto più lungo di capa blanca più più distante capa blanca perché ben stai diceva a mi vuole fregare qua perché mi vuole fregare giocando donna b1 e su donna f1 mi vorrebbe fregare giocando torre f1 ma io torre di uno ma io sono molto più forte capa blanca e ho visto che c'è il matto in c8 quindi in realtà la partita va un po diversamente c'è una grossa sorpresa perché qui perché qui capa blanca gli ha sparato una mossa che betta ha sparato nel film che non è donna b1 ma è donna b2 mossa fantastica perché chiaramente la donna non si può catturare perché se no c'è il matto e perché se giocate torre c c2 a questo punto è diverso perché dopo donna b1 se parate di donna ci pappiamo la torre allora però qual è l'errore perché è perfetto qui vedete che c'è aspetta fammi tornare un attimo indietro qui sulla partita fammi tornare qua esattamente dove 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 aspetta 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 qua allora il film eccolo qua il film fa vedere questa scena in cui effettivamente a un certo punto si vede questo qui che un altro po si mette a piangere e abbandona e se ne va peccato che la scena in cui lui ha questa faccia così è proprio quando invece non c'era questo problema perché la scena che si vede praticamente due mosse dopo mi sa che sono cambiati pedoni c'è alfiere b4 b3 b3 non c'è più sono stati cambiati pedoni quindi praticamente una posizione ancora tutta da giocare quindi secondo me casparo gli ha detto mettete questa che poi alla fine questo gli prende un colpo si suicida solo che si sono un po confusi e l'hanno messa prima anche secondo me però una cosa che forse penso sia voluta almeno nel caso di kasparov è la scelta anche in alcuni casi degli avversari è un episodio credo noto ma forse non così tanto che benstein fosse in qualche modo una persona che capablanca odiava molto perché il primo torneo d'elite di capablanca credo san sebastiano 1909 qualcosa così benstein aveva scritto una lettera agli organizzatori chiedendo che capablanca non partecipasse al torneo principale perché non aveva le credenziali e tant'è che poi nel torneo una delle partite più brillanti che non è questa capablanca la vinse proprio contro benstein e poi anche nel caso di fisher larsen la competizione tra i due insomma abbastanza nota e probabilmente poi segnò in qualche modo anche la carriera di larsen perché dopo la sconfitta 6 a 0 contro fisher nel insomma nel match dei candidati non riuscì mai a riesprimersi agli stessi livelli quindi secondo me un po di queste competizioni personali che fanno da sfondo che possono essere riconosciute dagli scacchisti ci sono e almeno io le ho trovate interessanti non so quanto volute ma nel caso di kasparov credo fossero anche volute insomma anche l'elemento umano di alcune di queste partite era molto forte comunque andiamo avanti nel film qui c'è la scena in cui lei vede borgo per la prima volta lo vede giocare adesso qui vabbè diciamo che c'è poco interesse qui c'è questa posizione borgo gioca cavalle 1 ma insomma non questo a livello soltanto storico cioè soltanto diciamo di cronaca ve la faccio vedere dopodiché c'è arriva quest'altra quest'altra posizione che potrebbe anche essere interessante però qui invece bisogna parlare un attimo perché ci sono varie cose da vedere qui gioca con questo ragazzino che devo dire abbastanza delizioso c'è un personaggio correttissimo fantastico e giocano questa partita la partita ovviamente una siciliana perché sapevano solo di siciliana avendo casparo come commentatore e ha varie cose interessanti da vedere allora non parliamo tanto di scacchi forse vi faccio solo un flash su questa partita così di curiosità in realtà qui la partita che è una partita questa è una partita jacovenko jacovenko selvwagen se si legge così in realtà jacovenko jacovenko ha giocato ha giocato ha giocato torre per b7 è una mossa molto naturale invece nella partita che succede nel film succede che allora varie cose molto simpatiche a un certo punto luca tu sei giovane rispetto a quelli po più vecchi di te no ma qui succede una cosa che per me è proprio mi ricorda proprio i vecchi tempi e questa è una cosa signori meravigliosa questi sono i scacchi veri si va in busta sospensione della partita in uno dei due giocatori chiama l'arbitro oppure dice metti in busta perché si deve proseguire il giorno dopo cosa che è sparita non esiste più non c'è più e facciamo vedere un attimo velocemente allora qui comunque per quanto riguarda quando torna bet dalla 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 partita in busta gioca ecco questa è la mossa che ha giocato la vedete in realtà gioca quest'altra mossa una mossa fortissima in diamogli solo dieci secondi luca perché non ce la faremo mai qua a farla vedere il concetto è questo ci sono alfieri di colore contrario quindi voi dovete giocare contro il re avversario non conta il numero di pedoni non conta dove stanno i pedoni conta soltanto la qualità dei pedoni in questo modo il bianco riesce a crearsi un pedone passato e questa è una mossa molto geniale allora che succede nel film succede che questa delinquente di bett come ci dicevano prima in chat infierisce perché prima se ne va bella tranquilla a casa perché aveva messo la mossa in busta corretta perché l'abito esegue la mossa in busta arriva e gioca una mossa questa evidentemente i più i più inesperti non l'hanno potuta riconoscere praticamente che succede che nel secondo il film il nero non si aspettava questa mossa in busta allora questa delinquente di bett e qui c'è casparo che ha spiegato come funziona esegue la mossa infierendo in maniera clamorosa col povero ragazzino perché gliela sbatte in faccia così zacca e stacca 5 come il ditto massacrato luca non so se ricordi che dopo commette molte scorrettezze perché si alza dimostrando che lei aveva tutto sotto controllo che l'aveva ormai battuto addirittura si mette pure a battere i piedi per terra questa è una cosa che è molto sgradevole no e anzi scusa luca adesso ti do la parola c'è un altro episodio praticamente che succede qua si vede la differenza fra chi è chi è scorretto e chi è molto molto anche sportivo perché il giorno prima il ragazzino prima dopo che sono andati in busta tutto timidino chiede a bett ma in america succede così parla del drive in eccetera e bett manco gli risponde e se ne va cafonissima cafonissima e questo invece quando il ragazzino poi abbandonerà tra l'altro un signore perché dice per lei bett io abbandono alla vecchia maniera con onore buttando il re così e bett dopo invece dice tu sei più bravo di tutti eccetera eccetera quindi una differenza mostruosa tra il comportamento in partita e il comportamento dopo la partita qui bett scorrettissima non fate così che dici tu luca assolutamente così così hai ragione secondo me cattura anche qui bene il fatto che anche tra i giocatori più forti e quelli più appassionati ci sono dei comportamenti scorretti e spesso sono concentrati durante la partita in alcuni casi sono proprio delle sensazioni più forti proprio della della persona stessa secondo me il film un po questo lo cattura che durante l'emozione della partita alcune persone che al di fuori della scacchiera sono squisite molto gentili possono diventare anche anche molto scorrette quindi secondo me cattura molto bene non ho mai giocato insomma con la mossa in busta ma l'ho sempre trovata una cosa molto romantica addirittura anche l'idea di queste nottate passate insomma analizzando le possibili mosse che l'avversario poteva mettere in busta con nei casi nel caso dei giocatori più forti anche con i secondi e davvero una una ricostruzione di un mondo che non può più esserci per via dello sviluppo insomma del dei computer e dei software scacchistici ma che sicuramente dava un'atmosfera molto classica insomma ai tornei allora qui adesso mi sa che lasciamo un po perdere gli scacchi qui e questo è un altro momento tipico per gli scacchisti l'accoppiamento qui lei vede che è accoppiato con borgo come se andassi un torneo vedessi scita e marza scita in marzano prenderebbe un colpo di domani sto messo male e ci gioca e qui c'è un'altra combinano dei macelli pazzeschi che adesso vi citiamo soltanto al volo praticamente che succede il commentatore dice a borgo gioca la sua partita e 4 che è la mossa più violenta e dice adesso tutti sanno che bet giocherà la siciliana e poi dice quindi bet gioca la siciliana per sorprendere il suo avversario portarla e portarlo fu in un in un terreno sconosciuto e poi dice pure che questa mossa è la più comune per il bianco pensa un po chissà che hanno combinato con le traduzioni per i vari comunque poi a un certo punto qui c'è il colpo di scena andatevi a riguardare a ritaglie che io ho fatto sta cosa aspetta aspetta andatevi a riguardare la faccia di la faccia di bet quando borgov gli gioca alfiere b5 bet fa una faccia orribile perché dice perché capisce che non potrà giocare la sua famosa siciliana aperta che poi non ti sto a dire che praticamente la qualla regia dice la siciliana bet deve decidere se giocare la siciliana aperta alla siciliana chiusa vabbè non spieghiamo e c'è un piccolo ci sono un po di un po di pastrocchietti però questo ovviamente non è colpa di casparlo è colpa del fatto che lui ha dato i consigli e poi loro li hanno assemblati in maniera un po così no non vediamo un po questo è sempre la partita con borgo e poi abbiamo diciamo terminato questa questa parte qua e inizia però io vorrei fare un altro flashetto perché vi faccio vedere un'altra cosa perché inizia aspetta aspetta allora vediamo questa qua sì va bene facciamo questa storiellina adesso andiamo un po più veloci c'è praticamente quest'altro personaggio che è molto caruccio questo personaggio che inizialmente era odioso lui perde perde con betta all'inizio facendo questa faccia proprio il film nel film viene viene odiato dagli spettatori dopodiché cambia tutto la va a trovare quando lei è diventata un po più signorina diciamo così lui rimane affascinato e qui c'è un altro pezzo in cui lei propone i libri lei l'ha già letti tutti a un certo punto si mettono a studiare questa posizione su in cucina la posizione è una posizione quel che succede una cosa buffa perché la posizione è questa qualche faccio vedere velocemente in cui il bianco gioca così gioca così e va a vincere lui dice che di aliechi in questa cosa ma io l'ho cercata ma non c'è o un'altra cosa buffa luca che ti dico avendo io ho fatto scusa se vado veloce ma sono le quasi le 11 voglio cercare di far vedere più cose considera che magari non chiuderemo se se voi potete rimanere rimaniamo a raccontarvi le cosette cioè io ho scoperto una cosa incredibile andando a ricostruire il database ho provato a fare una delle verifiche magari col motore ma anche per curiosità a un certo punto mi sono messo a controllare col motore lo sai perché per vedere sapete che su che il motore vi dice anche nel mondo chi ha o non c'è una posizione che non sia stata già testata tutti quanti dopo il film si sono messi a guardare le posizioni è fantastico pensate il successo e quindi che succede che nel film vedono giocano questa posizione dopodiché lui se ne va è ok il giorno dopo ritorna e si mettono sul divano è incredibile perché hanno a questi sono andati hanno cambiato scena hanno preso la stessa schiacchiera l'hanno messa lì e praticamente si trovano invece della posizione che voi vedete qua vi faccio vedere la posizione che hanno fatto vedere la schiacchiera sul divano la vedete che hanno così ma così ci hanno messo due pezzi in più a così hanno preso hanno buttato lì questi due pezzi e poi c'è lui che comincia a dire allora abbandona e fa allora dimmi dice what was your endgame cioè che è stato tradotto qual è il tuo finale è quella e dice ma il finale di che è qual è il finale la mossa che volevi giocare in pratica è lei il piano che vuol che avevi e lei dice no non avevo il piano ma che per battete che sei una pippa in pratica quindi lui poi si offende però insomma è tutto un po un po sbagliato aspetta fammi fammi far vedere la sorellina si offende e quindi dice no ma io sono un maestro tutti devi preparare diversamente devi studiare eccetera eccetera se ne va in bagno qua dice ma so proprio un fessacchiotto che come mi sono si vede che sono innamorato perso torna e si vede questa che danza e qui c'è una delle scene secondo me più belle e che mi portano lo spunto per parlare di un'altra cosa le musiche del film ragazzi sono fantastiche le musiche sono veramente fantastiche a proposito sono ancora musichetta qua sotto l'ho tolta perché qui c'è la musica vedete se volete ve la metto di sottofondo qua questo genzetto allora qui c'è un pezzo famosissimo che è fever e lei che balla e lui è completamente rapito da lei tra l'altro fever originale diciamo uno dei pezzi più storici cantata peggy lee molto bellina e lei che lo ammalia completamente e qua guardate che qui vedete uno dei passaggi che dimostra la la perfezione della regia e di come si costruisce io le noto molto io adoro la musica quindi le noto molto qua guardate andatevelo a rivedere lui esce dal bagno rimane inebetito con questa faccia e vi dico siccome in fever ci sono molti colpi di percussione andatevi a vedere quando addirittura il pezzo fa un colpo di percussione che equivale una sua sbattere io è perfetto c'è più psicopatici di messo questi qua quando fanno il film perfetto bellissima il vi suggerisco di andarvi a rivedere il punto in cui lui sbatte gli occhi che è stupenda alfiero azzurro va a dormire e va bene quindi questa scena mi è piaciuta tanto lui è un personaggio che poi chiaramente come finisce finisce così qui c'è un altro ricorso storico cioè qui c'è lei che legge diciamo libri scacchi dopo che stavano così coricati succederà nell'episodio successivo che noi non commentiamo oggi la stessa cosa viceversa e questo ci fa capire che quando le donne fanno così fanno così cioè questa è una rivendicazione della donna perché all'inizio quello gli dice now or never poi lei lo ridice qua lei fa così poi quando l'altro gli fa la stessa cosa sarà insomma vabbè comunque questo personaggio vabbè qui parlano della partita di qui c'è un altro errore qui c'è un altro piccolo errore perché ricostruiscono la partita così praticamente ricostruiscono la partita di smith botvinnik così facendo vedere che diceva qua sai botvinnik si poteva mangiare il pedone in h4 stato la donna impresa cioè vabbè c'è un piccolo errorino però noi siamo precisissimi l'abbiamo siamo andati a vederla in realtà però quello che vi volevo far vedere che può essere non so se se qualcuno qui c'è pure un'altra partita va beh adesso non ve la facciamo vedere perché vi voglio far vedere questo non so chi ha notato questo attore chi è c'è qualcuno che aveva riconosciuto questo attore questo è un attore molto famoso ha fatto una serie famosissima quando era ragazzino qualcuno lo ha individuato lo ha ricollegato tu luca te lo rinforse non hai visto la serie è una serie iper famosa lui stava nel come si chiama qua eccolo qua come si chiama il niente mi sfugge il nome adesso quella serie sul maghetto la come a harry potter o harry potter lui era un cugino odioso di harry potter guardate che faccia che c'ha a un certo punto della sua vita a un certo punto della sua vita questo era ciccione così ed è cambiato da un secondo all'altro guardate come è diventato quindi gli attori sono fantastici sono fantastici ed è un attore che questo è a me piace molto questo attore secondo me è una bella è una bella persona nel film è messo in forma per giocare a scacchi ma lo sai lo sai che nel film in realtà poi lui nel film lui si è rifatto anche i denti no allora qui un'altra un'altra cosa che diciamo io sono rimasto ammirato da questo film ma perché ha avuto così successo ha avuto intanto gli scacchi li tolgo proprio perché non ci interessano più diciamo ha avuto un successo planetario questo film ma perché è curato in tutto la fotografia guardate questa questa fotografia quanto è bella qua c'è una musica molto accattivante che vi potete andare a guardare riguardando il film e ma tutte le scene guardate se non è un quadro mi piace il quadro mi metto pure la musichina sotto allora qui rocco si freddi chiede se sapeva giocare a scacchi la terror joy allora terror joy che tra l'altro se voi non lo sapete è a è tutto un scuglio perché alla la madre anglo spagnola il padre scozzese argentino ci si capisce niente no non sapeva giocare a scacchi però io ho letto che lei prima di ogni scena memorizzava tutte le mosse per eseguirle perché luca mi fa c'è una cosa gioca scacchi ma è stato davvero in gamba perché uno degli aspetti che limitano un po gli attori e che non sembrano naturali quando fanno questo tipo di attività nel nostro caso riconosciamo gli scacchi ma sono sicuro che ogni sportivo riconosce l'attore che sembra innaturale quando quando fa un gesto sportivo in questo caso lei invece no era davvero molto brava molto credibile tutti molto bravi qua guardate anche la scenografia è fantastica vedete anche le scene dell'epoca qui il borgo che fa la simultanea e qui vi voglio far notare anche un altro paio di cose per cui secondo me il film ha avuto questo successo mostruoso allora qui c'è una questa lei è una farfalla lei bruttina bruttina e all'inizio veniva preso in giro dalle compagnie vi ricordate ha un'evoluzione pazzesca perciò il film ha successo pensate che hanno fatto addirittura un una mostra online virtuale sui vestiti di bet e lei era anche una è anche una modella quindi ci si è trovata molto bene poi lo sapete poi adesso vi faccio vedere anche il personaggio diciamo vero perché in realtà lei non è rossa di capelli per esempio questo è uno dei vestiti più apprezzati il vestito a parigi cioè la costumista di questo film è stata bravissima e lei come attrice è stata bravissima guardate quanti particolari ci sono guardate quanti particolari questa è un ricorso questo è un cerchio che si chiude lei all'inizio aveva questo vestitino grigio lo vedete che vi ricordate la scena in cui si era di si era distaccata dal vestitino che quella la 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 maestra la del 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 come si chiama nello frantofilo dice vabbè questo lo bruciamo e lei guarda il vestito dice ma come c'è il mio nome questo è il mio vestito tu me lo vuoi bruciare questa è la diciamo la vendetta la lei che fa pace con se stessa torna alle origini e la vestono di grigio uguale a quando era bambina per dimostrare che lei ha fatto successo nella vita e indovinate un po alla fine del film di che colore la vestono indovinate un po la regina degli scacchi di che colore la vestono la vestono di bianco quindi un proprio un percorso bellissimo sui costumi altra altra cosa che mi ha affascinato tantissimo e che luca ti dirò che non ho trovato da nessuna parte cioè nessuno ha notato questa cosa intanto ditemi se la musichetta di sotto vi dà fastidio io ve la tolgo oppure ve la rimetto così al massimo dunque nessuno ha notato questa cosa che invece mi ha veramente affascinato avete notato che il film è pieno di scale e qui lei sta scendendo ma lei di solito le scale e le sale quando arriviamo a las vegas a parte il fatto che come io vi ho notato qua vi ho messo la musichettina che quel cuoricino è il mio perché quel pezzo io lo adoro lo adoro quando lei sale le scale qui ragazzi è il pezzo clou cioè vuol dire lei che va verso il successo e in due volte la fa le fanno salire le scale con la telecamera di dietro una musica strepitosa e lei che sale verso il successo riguardatevi questa scena di las vegas che è stupenda e poi a parte che camion baby è un pezzo strepitoso in tutte le sue versioni e vabbè qui c'è un altro pezzo mexico city anche qui musica fantastica questa non è la foto delle scale quella appena arrivata su riguardatevi questo pezzo di mexico city vi dico questa cosa lei sale le scale con la musica dietro bella canza e tirata addirittura per dare ancora più movimento il regista le ha messo un personaggio che corre salendo sulla destra cioè quasi a trainarla come staffetta è una scena fantastica questa io sono rimasto molto colpito perché è bellissima quindi questa delle scale è una cosa proprio che fa chiudere il percorso di bet vedete questa è diciamo questo capitoletto che ha voluto fare sulla fotografia perché è troppo bello è troppo bello è veramente io sono rimasto colpito che altro vi possiamo far vedere allora via dobbiamo raccontare dobbiamo parlare delle cose divertenti adesso ci sono varie cose luca mi sa che parlare un po velocemente qua perché sono già le 23 10 allora facciamo vedere tutte queste cosette simpatiche vado un po veloce questi sono tutti elementi poi facciamo così ragazzi finché voi state qua e noi andiamo avanti quando vediamo che non c'è più nessuno ci sta soltanto il boss e allora chiudiamo perché vuol dire che siete andati via tanto luca non è stanco ha fatto soltanto tre ore di riunione con la fsi che che ci vuole allora questi sono vi faccio vedere un elenco qui ci divertiamo vi faccio vedere un elenco di casi tipici degli scappelli scacchisti che in tutta la nostra vita sono stati sempre frequenti allora guardate classico caso arriva la ragazza o uno che chiacchiera in sala da gioco quello dice sta zitta un attimo perché così no guarda altro classico caso i riti propiziatori prima della partita questo che tocca le scacchi prega non so che cosa faccia qui ditemi quando mai non è successo a voi che in famiglia state analizzando vostra madre vostro vostra zia che guarda la televisione voi dire scusate non ci capisco niente anche qua quando tutti abbiamo fatto vedere la partita tornati dal torneo quindi è successo a tutti luca la tua casa è così questa ragazzi è vero è la casa di uno scacchista cioè le scacchiere ecco blue eagle che è arrivato ragazzi o meno male che è arrivato adesso perché sennò ci cazziava su tutte le cose non precise che abbiamo detto finora comunque questa pure luca una scena classica non mi dite che voi non avete giocato a scacchi nella vasca da bagno tutti noi che dici quello non l'ho fatto purtroppo e me ma tu sei giovane puoi sempre farlo puoi sempre farlo anche qua vecchia cosa quando si giocava in busta tutti insieme vedete vecchie cose col telefono e su tutti i momenti scacchistici questa perché l'ho messa poi adesso la approfondiremo vi ricordo che matteo e davide faranno fra tre giorni l'ultima puntata io vi faccio vedere soltanto gli aspetti loro parleranno anche degli aspetti di scacchi con tutte le segreti però io vi faccio vedere queste cose diciamo scenografiche lo vedete c'è qui un occhio in esperto potrebbe dire è ma hanno sbagliato hanno messo tutte scacchiere diverse e no è lì la cura del personaggio del perché lo scacchista a casa a tutte scacchiere diverse quindi se devi fare una simultanea e mette tutte diverse allora questa è un'altra cosa importantissima lei che studia il russo perché fisher si era messa a studiare il russo per imparare gli scacchi e anche noi a volte leggiamo luca ne conosce cinquanta di lingue magari un po di meno però anche noi facciamo uno sforzo ci studiamo io qua mi sono dovuto prendere un libro in inglese perché c'era solo in inglese per studiarlo anche qui collezione quindi tutti abbiamo fatto questa cosa nella nostra vita abbiamo collezionato adesso luca ovviamente giovane poi ormai è uno scienziato quindi io sono molto più importante lui o molte più riviste insomma io sono pieno di no vabbè comunque ormai è digitale ma ti dirò carlo che su quello che dicevi prima che mio primo libro era davvero il russo mio padre aveva tradotto al russo per consentirci di studiare insomma quindi non è una storia così così strana era molto comune è perfetta anche questa tu dimmi quante volte sei andato in aereo per tornare o per andare nei tornei e non hai analizzato qualcosa sempre così poi adesso che abbiamo anche i book nel cellulare è la fine proprio non riusciamo a questa è proprio tutte scene cioè se c'è qualcuno degli amici che anzitutto io voglio fare una cosa se non vi offendete no perché io sono un pochettino adesso accaldato vorrei stare un po più in libertà quindi e parte mi vorrei un pochettino diciamo depurare dalle dalle cose così voglio stare un po più fluttuante ah così anzi mi tolgo pure il nome ma non lo posso fare con te questo luca perché tu c'hai un'altra diciamo vabbè questi sono segreti della regia però volevo stare un po più tranquillo fatemi stare così mi piace di più allora questa è una scena che è successa sempre ma tutte queste guardate questa questa che cos'è è una scena in cui loro giocano alla cieca lo sai luca io una volta stavo guarda pierluigi passerotti in macchina con me trattivo 30 anni fa lo sai che abbiamo saltato un casello perché stavamo giocando alla cieca abbiamo saltato un casello a un certo punto ma non dovevamo usci scusa niente ma siamo andati lunghi in autostrada perché stiamo analizzando la cieca attenzione lui guidava a qui qui praticamente io sono rimasto molto colpito perché io sono molto legato al mio viaggio in russia mi sono ricordato quando io sono andato in russia qui vanno in russia e guardate l'atmosfera in russia buio sei da sola nella russia a me è successa la stessa cosa mi hanno dato anche una sola sull'albergo che non c'era erano inesistenti mi volevano truffare sono scappato e quindi lei arriva in russia questo è un altro momento tipico lo sapete io ho girato tanto luca ha girato tanto quanto è importante luca quando arriviamo nella camera e dobbiamo valutare se ci piace la camera io ormai su web si vede tutto quindi lo sappiamo già però lei qua nella scena dice una cosa dice andrà bene perché dice andrà bene perché le piace la camera quindi attenzione scegliete bene e qui io mi sono praticamente praticamente commosso perché giustamente lei si fa la sua bella passeggiata in russia e quindi ovviamente io ho detto oddio ma l'ho visto questo palazzo non ho visto questo palazzo non l'ho visto questo palazzo allora ragazzi visco se non lo sapete già vi dirò questa cosa è molto triste questa cosa praticamente questa era la città in cui natale no vedete lexington ci ho messo la targhettina questo è lexington giusto quindi hanno girato il film qui quando era ragazzina non è vero è berlino questa invece un magazzino di lexington dove allora facciano la spesa non è vero è berlino questa qui invece vanno al cincinnati quindi giustamente anche qui vedete salgono le scale non è vero è berlino tutte queste foto sono berlino anche las vegas cioè questo è incredibile las vegas non è las vegas è berlino una tristezza quando scoperto che non ecco perché non riconoscevo questa è la sala ballo più grande di berlino quella famosissima scala dove lei è salita con camion baby retrattile praticamente la tolgono per far danza a tutti questa è berlino e questo mexico city neanche per niente questo qui è berlino pure questo praticamente ci hanno preso in giro da inizio alla fine a far vedere che lei girava dappertutto poi ci sono un sacco di anche qua questo aio ma manco per sogno berlino pure questo parigi parigi che romantica parigi niente berlino ma io dico una cosa se uno vede il film ma abita là cioè dopo due secondi come se casa mia come fai di che parigi per niente parigi è una parigi finta c'è rocco a rocco si fede me fai domande perché è stata girata berlino che ne so hanno scelto berlino e forse bellino per più mosca guardate la scritta lassù come imponente di mosca niente pure questo non era mosca un palazzo di berlino e addirittura l'albergo dentro fatto proprio arredato precisamente perché fosse mosca quando quello passa e dice vodka e lei dice no 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 che tutti crediamo che lo prenda berlino pure questa è questa e io stavo la miss durante il film ho detto tutti ho detto me l'ho visto non lo è sì perché andavo a fare passeggiate a mosca dove anche tu luca la prima cosa che facciamo noi tutti gli scacchisti quando andiamo in giro poi adesso dimmi anche se lo fai tu è prima scegliamo a perfezione il posto arriviamo la normalmente la prima cosa che facciamo ci facciamo passeggiate in una città luca che ci dici tu la mosca ci sei stato a mosca no però se ricordi abbiamo fatto delle gran passeggiate a tromso con il sole alle due di notte quindi alle due del mattino quindi si sono d'accordo le passeggiate insomma fuori dal dall hotel fuori dalla sala torneo sono un classico allora vediamo un po intanto siccome la gente aumenta invece che ridursi adesso parliamo di un'altra cosa casparov mo ci divertiamo veramente allora guardate se così si abbandona ragazzi abbandonate così lo vedete con che sportività si dà la mano è così che si deve fare vedete il russo come dà la mano così qui c'è stato casparo che ha fatto vedere che i russi sono galantuomini abbandonano dando la mano sorridendo è giusto è così che si deve fare vedete addirittura il bacio a mano è così che si deve fare quindi casparov è stato il il non sai perché ti dico questo perché c'è adesso aspetta ecco vedete casparo come dalla mano lui esporti hanno aspetta aspetta questo mi sono sbagliato questo è prima della partita con caruana però lui è sempre sorridente anche ecco vedi come sono aspetta aspetta anche qua mi sono sbagliato questo è fin da patta quindi non conta tanto intanto qui vedete vedete che c'è so che è molto addentro a questo film sta cercando anche lui di vedere se ci sono i scacchi sul soffitto di bet però qui forse non c'è comunque casparo così dalla mano lui sicuramente oddio forse se perde o forse soltanto se comincia a intravedere un po il dubbio di perdere potrebbe un po cambiare espressione non lo so se rimane con questa espressione qualche volta cambia un po espressione certo però se perde sicuramente darà la mano in maniera molto molto cioè a mi fa rinpo ridere no il fatto che casparo abbia abbia fatto il consulente però io casparo che dà la mano sorridendo se perde tu l'hai mai visto luca casparo che dal mano sorridente diciamo a tante qualità un gentiluomo quando perde direi proprio di no allora però io vi esorto tutti voi amici per favore date la mano sorridenti perché noi dobbiamo essere sportivi un'altra cosa ogni tempi di comitano no è vero non si può più fare senti un'altra cosa interessante è successo questo che io parlavo con la mia una delle mie numerose sorelle che mi ha detto è molto esperta di scacchi ovviamente avendomi seguito oltre a vita ha detto sai il film è molto bello ma c'è una cosa che è sbagliata che si guardano sempre in faccia ed è giustamente sbagliata questo è sempre casparo che dà la mano sorridente famosa scena allora casparo non guarda mai in faccia gli avversari in maniera ecco perché lui da consulente e questo io l'ho scoperto luca quando sono stato in russia e tu aver giocato con tanti russi soprattutto i russi ti guardano in faccia che è una meraviglia perché la scuola russa insegna proprio a guardare in faccia guardate bette come guarda in faccia l'avversario e e loro hanno talmente tanto lottato per guardare nella loro vita per guardare in faccia che quando casparo è arrivato a fare il consulente per esempio guardate questa scena della simultanea iniziale è andata così casparo ha parlato con questi si ha detto ragazzi oppure ha parlato con regista regista ragazzi tosti arrabbiati neri e ho detto arrabbiati che è stato uno sforzo questi hanno una faccia terribile tutti di proprio in maniera terribile ed ecco perché bette guarda sempre l'avversario era un palazzo di berlino quello sì ed ecco perché bette guarda sempre l'avversario tutti cattivi e allora i russi che cosa addirittura c'hanno un metodo per evitare questo fatto perché comunque guardate anche la locandina cioè giocare a scacchi con uno che te guarda così è praticamente impossibile e quindi a un certo punto nella vita è successo pure questo sfida mondiale corcione che si è messo gli occhiali in questo modo perché cioè non si riusciva a evitare che ne pensi tu luca di questo fatto di guardare la gente negli occhi ti è mai capitato sì sicuramente l'avrò fatto anch'io lo fanno tutti alcuni lo fanno più degli altri ma nel caso di corcione questa sfida c'era anche insomma la credenza che lui aveva che avessero mandato un ipnotizzatore da mosca quindi lui era convinto che di star perdendo qualche partita perché veniva ipnotizzato dal dal palco quindi ogni tanto la realtà supera anche la fantasia sì ragazzi dai comunque vero c'è questa cioè parliamo di elite mondiale noi queste cose non le faremo mai anche luca sicuramente non è che si mette a scrutare l'avversario per cercare di capire che mossa ha fatto e quindi vediamoci questa questa famosa visto che luca ha citato tronzo eccolo qua famosissima mossa g5 di battle che tutte qua è fantastica questa 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 ripresa e guardate luca come si spizza l'avversario che sta facendo luca sta cercando di capire il livello di preparazione dell'avversario luca raccontaci sì questa è una partita insomma in cui non è andata così bene per me però la mossa era era molto sorprendente e in effetti stavo proprio facendo quello che dici tu cioè cercando di capire dalla sua espressione che se ricordo bene era quella di una sfinge bartel in generale molto simpatico però durante la partita era una sfinge quanto eh insomma quanto sapesse conoscendolo meglio eh secondo me non era neanche così preparato è semplicemente un giocatore molto forte eh eh mi prendo dieci secondi ragazzi per ricordare che nello stesso torneo questo giocatore molto forte ha appattato faticosamente contro Carlo Marzano giocatore minore italiano del torneo però insomma ehm questa è una cosa molto carina già che l'hai citato non ho potuto evitare di mettere questa foto molto bella che ci ritrae proprio a tronzo tra l'altro con il nostro amico Renzo Ramondino che è il mio socio nel mister chess e quindi questa è questo è un ricordo che che mi è piaciuto far vedere e quindi a questo punto secondo me noi sai che dovremmo fare forse cominciare a a salutare un pochettino perché qua che abbiamo fatto che c'è da far vedere molti no no dobbiamo far vedere un attimo anche i personaggi allora perché i personaggi sono anche sono anche carini da vedere questa è la bet vera questa è la bet vera che è riconoscibile perché bet è bionda secondo me bionda stacca anche troppo forse è bionda però è bionda tinta mi dicono dalla regia che è bionda tinta Blue Eagle dice fa un commento in chat dice che è molto preparata tecnicamente non dice proprio questo dice un'altra cosa però vedete irriconoscibile loro tra l'altro sono una coppia molto particolare molto cioè a me lui per esempio con questi baffetti mi sembra veramente un soggetto strano no però hanno avuto un successo clamoroso lui anche come personaggio a me lei piace più bruna ma comunque voi donne avete rotto le scatole cioè siete cinque donne diverse basta andare al truccatore e ti devo anche dire che non è l'unica l'unica donna diciamo del film ci sono altre donne di contorno che sono comunque dei personaggi notevoli questa qui è la è la direttrice del dell'orfanotrofio che comunque un'attrice molto bella quest'altra è la sua nemica è un'attrice molto bella quindi sono tutti attori importanti tutti attori carini questa è strepitosa la la sua amichetta di quando era piccola che peraltro tutti notiamo che effettivamente perché lei dovrebbe aver penso un'età comunque superiore ai 20 anche se è difficile capire quanti anni ha e gli hanno fatto fare la bambina e è bravissima questa secondo me questa è meno bella ma è brava Rocco lo so è meno bella ma è brava queste due qua ma sono finte ma queste due qua vengono dal teatro sono stupende queste due qua ma dove l'hanno trovate sono meravigliose andatevi a vedere queste queste scene perché sono io sono per dire insomma sono rimasto veramente colpito dalla dalla regia non da 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 quanta cura c'è da quanta cura c'è in queste cose quindi tutti questi personaggi secondo me sono fantastici e fammi vedere se c'è qualcos'altro poi c'è un personaggio un po più triste che questa questo della mamma il personaggio della mamma sicuramente è triste un personaggio anche molto importante qualche cosa notiamo luca mi dispiace che ti sto proprio togliendo ma sono le 23 e 26 quindi qua che notiamo posso notare questo altro parallelismo qui c'è un parallelismo tra gli scacchi e la musica e che io vedo in tutto il film taymanov no filidor gli scacchi e la musica e quindi questo è un'altra è chicchetta che che si è vista quindi ma che che dire insomma e abbiamo fatto vedere praticamente tutto abbiamo andato un po di corsa quindi luca allora a questo punto visto c'è ancora gente che ci segue direi che da una parte noi diamo l'appuntamento il prossimo appuntamento success 24 è per giovedì sera perché ci sarà il l'ultima puntata di questa di questa nostra avventura con davide e matteo che ci faranno il terzo episodio che quello clou in cui si andrà in russia chissà che cosa mai succederà in russia e però visto che ci abbiamo qui un nostro campione vabbè allora blue eagle nota quest'altra cosa noi tutti gli scacchisti questo lo sanno anzi faccio anche notare questa cosa blue eagle dice giocano sempre lampo purtroppo è vero è così purtroppo non si riesce a fare un film di scacchi mettendo lì l'attore che pensa venti minuti perché che fa in venti minuti non ci riesci e devi fare questa cosa quindi devi far giocare lampo io se fossi regista l'avrei fatta un po più rallentata questa cosa però devo dire a onore del regista che qualcuno forse lo sa questa serie era prevista prima in sei puntate o meglio in sei episodi e regista abbattuto il pugno sul tavolo ha detto fermi tutti io ne voglio fa almeno sette perché gli scacchi hanno bisogno di respirare hanno bisogno di calma pensa se ne avesse fatte sei blue eagle che caspita avrebbe fatto no comunque guarda allora blue eagle dici che giustamente in pon sacrifice hanno reso meglio questo sì però c'erano molte meno partite però blue eagle non mi parlare di pon sacrifice perché t'hanno preso fisher sul letto che fa h4 alla prima mossa o a 4 non mi ricordo una cosa uno scempio non si può vedere almeno questi sono perfetti sulle mosse lo sai luca hai notato un'altra cosa io adesso guarda ho fatto uno studio pazzesco però mi è venuto pure in mente poi non ci ho avuto tempo volevo andare a controllare addirittura se quando scrivevano sul formulario scrivevano sul posto giusto della mossa ti è andata bene che non era uno dei miei formulari perché lì li ho sempre scritti in maniera più incomprensibile non sono l'unico quindi se fosse stato un formulario sbagliato non avrebbe significato che era stato fatto male semplicemente troppi giocatori anche molto forti scrivono formulari incomprensibili anche in posti sbagliati comunque io mi sono molto divertito a fare questa trasmissione insieme a te che è stata non una trasmissione di scacchi cioè è stata una trasmissione di scacchi è stato un documentario sugli scacchi e sugli scacchisti no siamo fortunatissimi perché la nostra categoria è fortunatissima in questo periodo e quindi è talmente fortunata che voi avrete molto presto la allora anzitutto venite giovedì perché davide mattevo vi fanno l'ultimo episodio quello della russia quello clu chissà che vi racconteranno sulla russia vedete questa grande sfida però c'è come vi avevo accennato prima c'è il problema cioè c'è il problema c'è questa cosa bellissima che accadrà a breve con luca protagonista cioè il campionato italiano online che inizierà dopo domani intorno alle 14 mi sembra che ci sia la l'inaugurazione all'una e mezza online sul sito ufficiale della federazione e dunque ovviamente io che sono di cest 24 non vi potrò mai dire di andare sul sito della federazione facciamo concorrenza quindi queste cose io abbiamo capito gli scacchi sono questo sono non collaborazione fra i canali ognuno si fa cavoli suoi vedete e invece in un mondo più bello più carino sarebbe proprio fantastico fare questa collaborazione come se maria ci venisse a salutare noi andassimo salutare lei eccetera purtroppo i commentatori di fsi è chiaro che non è che possiamo stare dappertutto e quindi luca verrà commentato udite udite non sfuggite non sfuggite non ce la farete mai a liberarvi di noi perché noi commenteremo anche per la federazione in questo scambio di collaborazioni che è proprio ciò che io spero possa ispirare il 2021 una nuova epoca in cui non ci sono più allora io a me non interessa proprio chi vuole fare i suoi bisticcetti li facesse pure a me non interessa a me piace stare negli scacchi aiutare tutti quelli che vogliono una collaborazione e questa cosa ha avuto diciamo un immediato epilogo diciamo così nel fatto che noi stessi cioè che la fsi ha chiesto a noi di commentare anche il campionato italiano quindi probabilmente è anche merito vostro in chat perché hanno visto che abbiamo una chat così simpatica quindi questo significa che dopo domani voi potrete andare sul sito della f sul sito federale e vedere i commenti adesso dobbiamo fare ancora il palinsesto però presumo che il primo giorno ci sia davide di trapani che che commenta avremo un sacco di ospiti un sacco di commentatori che si alterneranno io gli annuncerò quando saranno precisi gli orari c'è il campionato anche femminile non dimentichiamoci che c'è sia il campionato assurdo che il campionato femminile che l'under 20 quindi sarà un torneo pazzesco un sacco di gente oggi luca ha fatto la riunione introduttiva che erano i 7 mila è durata tre ore no io rimetto però luca io rimetto rimetto qui questa cosa fantastica guardate guardate che campionato adesso luca ci commenterà il campionato da fuori luca tanto fai 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 modalità fai prima modalità diciamo di campione americano che deve screditare tutti gli avversari come come se stessero qui fai finta che tutti quanti si stanno che cosa faresti per per farli sentire in imbarazzo rispetto a te vediamo che ti inventi in in dieci secondi ma se sono sopravvissuto a cinque ore di telefonate insomma di diretta oggi è chiaro che sarò anche quello che riuscirà a sopravvivere al torneo oggi si parlava a lungo di resistenza e delle regole su quanto bisognasse stare insomma davanti alla alla videocamera quindi probabilmente sarà anche una questione di di capacità di resistere senza stramazzare no sono felicissimo che ci sia il torneo e mi sembra anche bello che sia un po più grande insomma con più giocatori del solito anche questo è dovuto al al format online e penso sarà davvero molto divertente io sono molto contento di giocarlo quindi penso anche per il pubblico potrà essere interessante sono contento che vi abbiano scelto per commentare insomma è guarda io sono estremamente felice perché quando ho visto l'elenco dei giocatori ho detto mamma mia ma questo cioè ma ragazzi in chat come fate a perdervi questo evento loro verranno divisi in due gironi e poi ci saranno dopo tre giorni di sfide giocano rapid per cui dopo tre giorni sfide si creeranno cos'è semifinali poi le finali no ma guardate chi c'è c'è sono praticamente tutti è bello guarda luca effettivamente un campionato così non era mai non c'era mai stato praticamente no perché la logistica di avere così tante persone molto più complicata dal vivo e quindi in questo caso online si può l'hanno fatto e devo dire anche bisogna fare i complimenti alla federazione per un periodo difficile sono riusciti a organizzare qualcosa in in brevissimo tempo insomma intanto ti chiedono che ora sarà in brasile durante il torneo e qua sono quattro ore prima quindi giocherò la mattina che in effetti non volevo dirlo per non dare questo vantaggio ai miei avversari però si sarò semi addormentato giocando la mattina senti ed è vero che qua in effetti il torneo è veramente bello perché se voi guardate per esempio gli anche gli ultimi c'è lumachi che è un giovane promettente poi c'è gilevic ma lettieri che è una potenza no rapid quindi ma io per esempio ci lì in fondo cioè in fondo dopo i primi ci sono questi tre diciamo della vecchia guardia alla quale tu non appartieni fortunatamente tra un po di anni ci entrerai ma ci sono godena belli e garcia valermo che luca ovviamente hanno un grosso rispetto e sono potenzialmente pericolosissimi per tutti quanti assolutamente secondo me come torneo riflette benissimo insomma gli scacchi italiani ed è un evento davvero molto interessante più completo del solito riflette appunto la vecchia guardia come hai detto le persone che hanno fatto la storia dello scacchismo italiano i vertici elo e anche giovani promettenti quindi è proprio un bel evento infatti io sono secondo me è fantastico adesso lascio questa lascio questa di non metto il femminile l'under 20 tanto avremo ore e ore e ore per parlarne ma è talmente bello questo quadro con tutti i giocatori italiani più più forti che scusa ma chi è che manca qualcuno qualcuno sì però diciamo che comunque una insomma è una lista davvero di tutto rispetto e include non c'è stato un campionato italiano che io ricordi che include così tanti giocatori insomma di punta o giovani promettenti allora in chat chiedono c'è l'anti cheating ragazzi questo torneo che ha comunque premi in denaro seri sicuramente c'è un articolo sicuramente nel senso che c'è vi confermo che c'è l'anti cheating è ovvio dopodiché il conte yellow ti chiede diciamo chi fra gli italiani a parte luca che ovviamente andrà ancora più in alto ma chi dai tra gli italiani ha più potenziale di miglioramento è sempre una domanda delicata a me piace molto lo stile di francesco sonis secondo me un po incostante come come risultati più che altro per una stabilità durante la partita o durante il torneo ma come stile di gioco e come talento mi sembra davvero insomma che abbia un potenziale enorme e speriamo che che salga sempre più su così l'italia diventerà sempre più forte e quindi ragazzi praticamente manca pochissimo se continuiamo a stare qua luca non riuscirà neanche andarsi a preparare il campionato visto che inizia praticamente una giornata e mezzo e sarà una grande festa come quella che è stata questa sera siete a corsi qui a seguirci e quindi noi vedete siamo siamo mezzanotte meno 20 siamo ancora qua non ve ne siete andati adesso possiamo andare avanti fino alle 4 luca ha detto massimo le tre un quarto mi devi far staccare ho messo come ultima fotografia qua questa che secondo me è una delle più rappresentative ed emblematiche questi scacchi sul soffitto questi scacchi sul soffitto perché me l'hanno anche chiesto non è che i giocatori lo dico agli amici che non che non giocano non è che luca analizza guardando il soffitto perché c'è la scacchiera luca o comunque qualcun altro perché per esempio ivanchuk lo fa spesso io vedo ciro cirov secondo me è una cosa che viene con l'età perché vedo che anch'io lo sto facendo sempre di più è un metodo per trovare la concentrazione cioè svincolare l'occhio dalla scacchiera e guardare altrove quindi lo scacchista guarda in alto perché fa così e la immagina dentro la mente e questa è una cosa molto bella che in effetti accomuna gli scacchisti tutto il mondo perché uno può essere ricco e avere le scacchie di legno può essere talmente povero come un barbone o come bet che sta in orfanotrofio e neanche può guardarli può toccarli gli scacchi ma lei ce l'ha nel suo cuore nella sua mente e li guarda e ce l'ha con sé e quindi per qualcuno gli scacchi accompagnano tutta la vita poi c'è pure chi avendoli per tutta la vita decide di fare lo scienziato e di andarsene in america per aiutare il mondo che forse ci fa pure comodo però tu gli scacchi ce l'hai sempre nel tuo cuore assolutamente sì sono sempre molto contento di giocare è bello avere diciamo una passione che può come dici tu può essere fatta ovunque nel mondo e indipendentemente appunto dalle situazioni della vita è un gioco che si può giocare ovunque e che rimane per la vita quindi senti luca tu lo sai che grazie a questa serata avrai ancora più tifosi per il campionato italiano un po perché sei stato simpatico qua un po perché secondo me è fatto pure un po pena in quanto avranno pensato ma scusa ma sto voraccio l'hanno fatto venire apposta dal brasile e carlo manco lo fa parlare ragazzi purtroppo chiedo scusa ma c'era una tale mole di fotografie e di chicche da far vedere che non me le volevo perdere ve le volevo esporre tutte spero che voi per togliervi queste curiosità o anche altre andiate a rivedere i video perché o i video sono registrati pure non mi dite è sei molta gente che ci dice purtroppo non c'ero non l'ho potuta vedere che il problema c'è bella fa cliccate e tra le vedi quando ti pare quattro di notte anzi noi abbiamo tantissime visualizzazioni postume quindi questo mi sorprende pure luca lo sai che ci vedono magari adesso fra un'ora il video sarà visto molto di più di quanto sia stato visto fino adesso perché se lo vanno a rivedere dopo che è anche più comodo una bella trasmissione da tempo che volevo partecipare me l'avevi già detto e sono molto contento di essere insomma stato ospite per i tifosi del campionato italiano spero di non essere un po una polpetta avvelenata è un po che non gioco ma farò del mio meglio avvelenata per i tuoi avversari quindi avete visto il messaggio di luca che già vuole essere la polpetta avvelenata per gli avversari capito lui si è messo in lista al numero 11 del tabellone a dare una zampata vincente poi dobbiamo capire se riusciamo luca a rompervi le scatole dopo le partite perché adesso sarebbe carino no sentirvi dopo le partite però vi dobbiamo prendere mo non lo so come vogliono organizzare bene perché da poco ci siamo accordati per per fare queste dirette quindi anche o caspita siete 50 certo come facciamo a sentirvi tutti con le interviste magari gli ultimi turni allora facciamo così alla finale poi dopo ti invito e fai la finale cioè quando avrai vinto a secondo non credo io penso che insomma essendo una polpetta avvelenata gli potrei avvelenare tutti e quindi ragazzi facciamo il tipo per luca io purtroppo sarò il commentatore anche lì non vi toglierete mai dal dalle scatole pensa mai dire qualcun altro ea commentare per la fsi ci siamo sempre noi ragazzi non vi possiamo abbandonare quindi luca io adesso ringrazio tutti gli amici che sono venuti in chat a questa serata molto divertente tutti gli amici scacchisti e anche tutti gli amici non scacchisti che sono venuti a a curiosare per vedere questo mondo nostro degli scacchi come è composto perché siamo mezzi matti perché ci abbiamo i tic perché facciamo così o cosa ma soprattutto ringrazio te luca perché per me è un onore averti avuto qua in duplice veste anche di super studioso e aiutante del mondo in questo momento grazie a te carlo e grazie davvero anche al pubblico che ci ha commentato e anche chi ha semplicemente seguito benissimo ragazzi allora buonanotte a tutti e adesso come sigla finale visto che prestissimo non è neanche mezzanotte non vi metto quella ufficiale ma vi metterò la sigla nostra alla quale noi siamo più affezionati che è quella del nostro isolated bone per cui vela beccate come buonanotte e ci vediamo fra due giorni sul sito della federazione a prestissimo ciao a tutti ciao a tutti buonanotte ciao a tutti 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 ciao a tutti